Ringraziamo la senatrice Bernini per aver accolto con sollecitudine l'invito a riferire sulle linee programmatiche in materia di università e di ricerca, essendo la prima dei quattro ministri che verranno a offrire questa occasione per la Commissione. Questo primo confronto con le due commissioni permanenti. Ringrazio la Commissione della Camera, il suo Presidente, che è qui in forma di ospitalità. Questa è la prima delle quattro. Come abbiamo detto, domani procederemo a essere ospitati noi alla Camera dei Deputati. Prima di cedere la parola al Ministro, saluto tutti quanti voi, dico che ci siamo dati un tempo per la relazione del Ministro, che intenderà fare nei tempi e nei modi tenuti da lei, e subito dopo ciascun gruppo, Camera e Senato avrà cinque minuti. Con il Presidente Moligone siamo arrivati a determinare che sono elastici, se c'è necessità di qualche minuto in più per i gruppi lo faremo. Per il primo giro poi risponderà chiaramente il Ministro e ci sarà un secondo giro di interventi da parte dei singoli gruppi. Prima di tutto grazie ai Presidenti delle Commissioni di Senato e Camera, grazie ai senatori e ai deputati, e grazie per avermi voluto audire per prima. Non so se sia stato un caso o una scelta, comunque mi considero molto onorata di essere stata invitata da voi per prima. Ma chi sono? Allora San Giuliano ci arrivo e poi? A Bodi. A Bodi? E Valditara. Ecco, beh Valditara certo, avrei dovuto arrivare anche a Valditara, era a Bodi che mi sfuggiva, perché è sport. E anniversari. E anniversari. Certo. Beh, questo sarà anche uno spunto di coordinamento, perché ci sono alcuni dei settori di cui parleremo insieme, su cui ci confronteremo insieme oggi, che sicuramente hanno degli addentellati, hanno dei collegamenti, ovviamente con il Ministero dell'Istruzione, certamente con il Ministero della Cultura e anche con il Ministero dello Sport. Pure se il tema Accademia, Università e Sport non è probabilmente così connesso come potrebbe, forse dovrebbe essere, ma questo può essere un spunto ulteriore di discussione e di riflessione. Io avrei calcolato una trentina di minuti, 30-35 minuti, se poi vedo che sto abusando della vostra pazienza, stringo e magari lascio spazio alla discussione e agli interventi. Ovviamente da questo momento in poi noi abbiamo circa un mese, siamo neonati, abbiamo circa un mese di vita e stiamo cercando di raccogliere il testimone di iniziative che per quanto riguarda il nostro Ministero sono, diciamo, il futuro a partire da ora. L'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, poi ne parleremo partitamente a seconda dei diversi ambiti di operatività, però il futuro a partire da ora significa non più solamente milestone, quindi non solo pietre miliari normative da aggiungere, ma anche target da conseguire, quindi indicatori di performance, obiettivi concreti, reali, numerici da conseguire. Partendo da questo presupposto io mi permetto di naturalmente chiedervi di essere ascoltata quando sarà necessario, cioè di condividere con voi criticità, anche elementi di perplessità rispetto all'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Naturalmente per me sarà un privilegio ascoltarvi e condividere con voi argomenti, elementi critici che possono essere in parte, so già essere portati da una parte di voi, ho avuto anche un question time, vedevo prima l'onorevole Piccolotti, abbiamo avuto un question time su un tema molto interessante, un question time che mi ha anche visto un po' sgridata dal Presidente della Camera, perché non avendo ancora presentato le linee programmatiche e non volendo essere inadempiente ho cercato di dire il più possibile, ma in realtà non ho detto abbastanza, ma il tema veramente interessante di quel question time era chi valuta il valutatore. Partendo da questo presupposto vorrei darvi un ambito di operatività del Ministero, dell'Università e della Ricerca. Noi trattiamo di accademia, scienza, ricerca, fondamentale di base applicata, arte, perché nel set del Ministero, dell'Università e della Ricerca vi sono anche gli enti AFAM, alta formazione artistica, musicale e coreutica. Un giacimento di talenti, tutti da valorizzare, quindi accademie, conservatori, politecnici delle arti, che sono la naturale futura evoluzione di una sorta di joint tra questi enti di natura artistica, di alto artigianato artistico. Arte e scienza sono sicuramente, qui comincio con la relazione, che mi sono permessa anche di rassegnare ai due presidenti e che lascio la vostra attenzione e magari alcuni aspetti per evitare eccessi e lungaggini che magari sarebbero parte della discussione successiva, lascio a voi, rimanendo sempre aperto al confronto con voi sui temi che troverete. Ecco, arte e scienza sono due pilastri che fondano la nostra identità e che connotano il nostro Paese. Ho fatto degli esempi, Michelangelo e Leonardo, Grazia Deled, Enrico Fermi, Riccardo Mutti, Giorgio Parisi, il nostro grande premio Nobel, padre, laboratore di sistemi complessi. Perché questo rappresenta un filo rosso che unisce la scienza, la ricerca e l'arte. Perché ricercare vuol dire immaginare. E ho citato un'intervista di Giorgio Parisi che evoca un'immagine bellissima, la mente immaginativa dei matematici, la stessa forza dell'immaginazione che operano gli artisti. Creare vuol dire immaginare e poi realizzare. La nostra missione, come di Castero, consiste nel dare la possibilità ai nostri artisti e ai nostri scienziati, ovviamente dai nostri accademici, a chi studia e a chi è impegnato in percorsi per diventarlo, di passare dall'ideazione alla realizzazione. Significa agevole e diffuso accesso ai luoghi del sapere, risorse economiche, persone in grado di trasmettere la conoscenza e legami con chi quella conoscenza deve poi tradurlo in prodotti e servizi, a beneficio delle nostre comunità, scoperta e valorizzazione dei nostri talenti. Grazie. In definitiva, la costruzione di un sistema stabile e dinamico, volto ad instaurare un ciclo virtuoso tra formazione, ricerca, imprenditorialità e promozione culturale. Questo è l'impegno che comincio ad assumere davanti a voi, ovviamente sarà sottoposto a una serie di verifiche in progress e che perseguirò durante tutto il mio mandato. Ciao. Per questo occorre continuità nel medio e nel lungo termine, il miglior modo per ottenerla, immaginare e costruire, e questa è una cosa che sta molto a cuore al sottoscritto, al Ministero, ringrazio il sottosegretario Augusto Montarulli di essere qui a supportarci e condividere questo statement. Per noi è fondamentale ribadire l'autonomia, non solamente l'immagine autonoma, ma il contenuto e la consistenza autonoma del Ministero dell'Università e della Ricerca. Un Ministero giovane che tiene insieme, come vi dicevo, alla comunità accademica, scientifica e dell'AFAM, dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica. E questo è il Ministero, noi lo diciamo senza pompa, ma semplicemente attraverso una valutazione oggettiva della nostra missione, deve sapersi assumere una responsabilità verso il futuro. Chi più di noi, chi più dei formatori, chi più dei formatori dei formatori, perché anche questo, vedremo, saremo chiamati a fare, è evocato a costruire il futuro. In questo percorso ve lo anticipavo, ve lo scritto. Vi chiedo di accompagnarmi e di non farci mai mancare il vostro apporto, anche critico, possibilmente costruttivo. Quali sono le nostre priorità? E qui ci caliamo in Medias Res. Le nostre priorità sono di potenziare e intensificare le iniziative a favore della ricerca scientifica, fondamentale e applicata, quindi ricerca di base, ricerca industriale, in tutti i campi del sapere, a cominciare da quelli condivisi a livello europeo. Questo per noi è un obiettivo cruciale, se vogliamo conseguire un'effettiva autonomia strategica, come Ministero e come contenuti di di Castero. Per realizzarlo occorre preparare le persone, a partire dall'orientamento ai giovani, nel corso degli studi scolastici, e questo è un punto di connessione con il Ministero dell'Istruzione. Il tema dell'orientamento noi lo consideriamo prioritario, proprio per evitare quella dispersione scolastico-accademica che spesso genera l'abbandono degli studi. Quindi un orientamento che parta dalla scuola superiore per orientare la scelta, la formazione e la scelta accademica successiva. Diceva, a partire dall'orientamento ai giovani, nel corso degli studi scolastici, e nelle scelte sulla formazione superiore, per indirizzarli verso le scelte e le competenze di cui il nostro sistema, sia della ricerca che del lavoro, ha più bisogno. E poi puntare a rafforzare i percorsi di formazione superiore, investendo sulle competenze del futuro, di cui parlerò in seguito, non sono solo parole. Lo scopo deve essere quello di accrescere il numero dei giovani che accedono al sistema della formazione superiore e che conseguono il titolo di studio, secondo le loro inclinazioni, a prescindere dalle loro condizioni economiche e sociali di partenza. Soprattutto nelle aree più fragili del Paese, anche di questo parleremo, perché anche questo è diritto allo studio, accesso è diritto allo studio. Lo scopo, cioè, è di tutelare il diritto allo studio, rendendolo effettivo nel contesto che ci troviamo ad affrontare, un contesto di crisi, la pandemia, la guerra, con i costi economici e sociali e i loro mutamenti esistenziali in termini di approccio e socialità. Il calo degli iscritti nelle nostre università è un dato icastico di questa crisi, anche se diversamente organizzato a seconda delle diverse aree geografiche. Vi sono delle aree del nostro Paese dove le application, le immatricolazioni sono aumentate e altre dove sono calate drasticamente. E questo non è mai casuale. Cioè, facendo una valutazione, esiste un motivo oltre, è tutto multifattoriale, ma esiste un motivo oltre alla pandemia, alla guerra, alla crisi economica, che induce alcune aree, indipendentemente dall'offerta formativa, che può essere eccellente, ad essere meno attrattive o meno praticabili. Ecco, dicevo, il calo degli iscritti nelle nostre università è un dato icastico di questa crisi, dentro la quale si riproduce il dualismo storico che ha segnato lo sviluppo diseguale del nostro Paese, Nord e Sud. Il tasso di abbandono degli studi è più alto di diversi punti nel mezzogiorno. Non è una novità, dovuta anche alle caratteristiche del mercato del lavoro, ma è innegabile come ad antichi ritardi se siano aggiunte nuove criticità. Semplice, se studiare costa, la crisi rende questo costo un lusso per i menaggiati. Per noi questa tagliola sul futuro che trasforma un diritto in privilegio è inaccettabile, e non solo eticamente, ma è politicamente ed economicamente perché rende il Paese meno in grado di competere in Europa e nel mondo. Più insicuro nelle prospettive è piegato su se stesso. Sentitemi, più fragile democraticamente, perché investire sulle persone, sulla formazione, sulla ricerca, sull'arte, sulle intelligenze individuali e collettive significa investire sulla democrazia. L'accesso allo studio, dunque, è la nostra priorità. Il PNRR ci fornisce alcuni preziosi strumenti, altri li dobbiamo mettere in campo noi, in particolare dal 2026 in poi. Il primo strumento che il Governo ha messo in campo, anche in quest'autunno impegnativo, è di carattere finanziario, ma richiede senz'altro di essere rafforzato. Il piano nazionale di ripresa e resilienza sta vivendo una fase attuativa che dovremo presidiare con estrema attenzione. Le iniziative di competenza del Ministero dell'Università e della ricerca, missione 4, istruzione e ricerca, hanno beneficiato di 11,730 miliardi, dei quali 2,64 miliardi destinati al potenzialmente dei servizi di istruzione e 9,09 miliardi a ricerca e innovazione. A oggi il MUR ha raggiunto tutti gli obiettivi fino al 2022. Entro la fine dell'anno sono previste tre ulteriori scadenze, a giugno 2023 un altro target e ancora tre scadenze a fine dicembre 2023. Sono state attivate risorse e adottate bandi o provvedimenti di riparto per 9,46 miliardi di cui 7,09 miliardi già assegnati. I primi trasferimenti ai soggetti attuatori saranno effettuati entro l'anno. Si tratta di un'iniezione imponente di risorse per investimenti in università e ricerca accompagnata da una strategia di riforme per migliorare le condizioni di contesto, ridurre i divari e aumentare equità, efficienza e competitività dell'Italia. Per questa ragione la piena ed efficace attuazione del PNRR è la priorità trasversale ed urgente di tutta l'attività del Ministero. Allo stesso tempo quanto realizzato finora con il disegno indicato e la prima attuazione del PNRR ci deve indurre ad una riflessione prospettica. Il PNRR ha richiesto di individuare divari e ritardi e definire il percorso di riforma e di investimenti necessari per superarli e ha fissato precise scadenze temporali. in questo modo il piano ha imposto neanche tanto implicitamente un cambiamento di metodo. Occorre adesso verificare la capacità del sistema del nostro sistema un terreno lasciato inaridire per troppo tempo di assorbire in modo adeguato ed efficace risorse immesse e di rendere stabili e sostenibili nel tempo le innovazioni realizzate. Il PNRR deve diventare sempre più la sperimentazione di un nuovo metodo che riguarda il monitoraggio e la rapidità dell'attuazione e la necessaria valutazione di questo fatto. La cultura della valutazione delle politiche pubbliche consiste nella prova della realtà e nella certificazione delle promesse mantenute. L'errore più grave sarebbe trattare questa novità come un episodio isolato estemporaneo come una grande opportunità destinata a esaurirsi e a lasciare il vuoto dopo di sé. Sarebbe un errore nell'ottica europea perché è nell'interesse dell'Italia che la condivisione della spesa per gli investimenti produttivi faccia parte del futuro dell'Europa e sarebbe un errore nell'ottica nazionale perché la logica del PNRR va improntata all'innalzamento del potenziale del nostro Paese considerando la sostenibilità e la crescita degli investimenti oltre l'arco temporale del piano stesso e cambiamenti profondi che possono innescarsi così a livello di sistema. Dobbiamo allora instaurare nell'ambito delle traiettorie tracciate dal Programma Nazionale per la Ricerca una sinergia tra linee di intervento del PNRR del futuro Programma Nazionale Innovazione Ricerca e Competitività per la Transizione Verde e Digitale e gli altri strumenti della politica di coesione nazionale. Il PNRR inoltre deve essere leva per potenziare in termini strutturali e coerenti le politiche per l'Università e per l'AFAM sempre l'alta formazione artistica musicale e coreutica. Serve programmare per tempo l'uscita dal PNRR e questo è un tema colleghi questo è il tema l'uscita dal PNRR e trovare spazio nel bilancio ordinario per dare continuità a politiche di investimento sul capitale umano. È una logica ben illustrata dal Tavolo Tecnico per la Strategia Italiana in tema di ricerca fondamentale quello di cui parlava l'interrogazione dell'Onorevole della Collega Piccolotti che mostra l'aumento delle risorse complessive grazie al PNRR insieme all'esigenza di un'attenzione stabile e strutturale. Il PNRR è stata la scintilla per accendere un fuoco ora questo fuoco va alimentato valutiamo come l'accesso e l'investimento in formazione superiore non sono solo fattori di competitività del Paese ma elementi essenziali per ridurre le diseguaglianze socio-economiche e territoriali. Non si può migliorare la propria condizione sociale senza avere solide garanzie nel diritto allo studio. Secondo Eurostar 2021 l'Italia ha una quota del 28,3% di giovani con un titolo di studio di livello terziario contro una media europea del 41,2%. Un gap che va assolutamente colmato così come quello dello skill mismatch ovvero la difficoltà di reperire la difficoltà di incontro tra la domanda dell'offerta sul mercato del lavoro che ad agosto 2022 ha interessato negativamente il 42% delle opportunità di lavoro. Per ridurre questi divari occorre agire su più piani dall'accesso e diritto allo studio all'orientamento e inserimento nel mondo del lavoro. Rendere universale il diritto allo studio è cruciale se vogliamo aumentare il potenziale di crescita. E' questo un obiettivo in cui crediamo fermamente e per realizzarlo intendiamo rafforzare il supporto alle fasce sociali più deboli oltre la prima fase del PNRR. Per gli anni accademici 2022-23 23-24 le borse di studio avranno a disposizione risorse nazionali investimenti del PNRR e del REACT-EU per ampliare la platea di percettori e incrementare soprattutto il valore unitario della borsa. Ma non basta. Bisogna dare continuità a questo obiettivo nel tempo perché il governo già nell'ambito della legge di bilancio per il 2023 ha previsto una dotazione finanziaria dal 2024 perché il finanziamento del 2022-2023 rimarrebbe scoperto dal 2024. Per il 2024 da incrementarsi ulteriormente anche nella legge di bilancio successiva all'attuale. Siamo consapevoli delle difficoltà finanziarie che gli studenti fuori sede incontrano nelle spese di sussistenza o nella ricerca di alloggi. Con il PNRR ci siamo dati un obiettivo ambizioso incrementare i post letto dagli attuali 40.000 a oltre 100.000 nel 2026 e qui cominciamo con l'housing edilizio l'housing universitario che ha una prospettiva a breve termine lo vedremo e una a medio o lungo termine importantissima proprio perché spesso anzi quasi sempre non è la qualità dell'offerta didattica ma la carenza di infrastrutture a fare la differenza nella antropizzazione di una di una sede universitaria il primo bando per 7.500 posti si sta chiudendo in questi giorni e questo è l'obiettivo a breve termine per conseguire l'obiettivo di dicembre 31 dicembre 2022 sarà fondamentale l'housing universitario fondamentale l'edilizia universitaria a breve partirà un'ulteriore iniziativa per altri 52.500 posti si tratta di una missione non facile che richiede il costante affiancamento dell'università degli enti per il diritto allo studio e come dice il PNRR degli operatori privati è un mercato che va creato creato in alcuni casi creato e sostenuto in particolare nelle aree meno attrattive del paese che proprio per questo ne hanno più bisogno metteremo in campo tutto il supporto possibile normativo e finanziario con questa legge di bilancio insisteremo per integrare la dotazione destinata alla realizzazione degli obiettivi proprio in tema di housing universitario l'obiettivo di accrescere la quota di giovani che accedono e completano gli studi universitari per noi tra i più bassi in Europa è reso ancora più necessario dai cambiamenti demografici senza l'aumento della propensione a proseguire gli studi dopo il diploma il calo dei giovani si rifletterà inevitabilmente in quello dei nuovi laureati mettendo a repentaglio la crescita del nostro paese ciò è particolarmente vero per il sud dove i giovani sono già in diminuzione e il flusso degli studenti universitari verso il centro e nord è molto elevato di questo insieme al più basso livello di reddito degli studenti del sud occorrerà tenere conto per il finanziamento dell'università dobbiamo evitare che territori già di per sé fragili finiscano per perdere capitale umano culturale e scientifico essenziale per il loro sviluppo è necessario e questo è diciamo quell'orientamento di cui prima si diceva è necessario proprio per evitare errori di scelta o incertezza nella scelta a tutti noi sarà capitato di trovare una giovane che deve iscriversi all'università che ha idee molto disomogenee rispetto alla sua scelta posso fare giurisprudenza o fisica non è la stessa cosa ciascuno di noi ha un talento che dovrebbe orientarci in maniera definita se siamo in grado di circoscrivere il perimetro di questo talento allora per farlo è opportuno un orientamento è necessario orientare i giovani nell'individuazione del giusto percorso di formazione superiore aiutandoli a compiere scelte coerenti con le loro inclinazioni e importantissimo con le esigenze del mondo del lavoro solo così potremo anche ridurre il tasso di abbandono universitario ancora troppo alto in Italia è stato attivato fin da quest'anno l'intervento di orientamento nel passaggio scuola-università con l'erogazione e questo è un altro collegamento tra il Ministero dell'Istituzione e il Ministero dell'Università e della Ricerca con l'erogazione di corsi a beneficio di un milione di studenti per i prossimi 4 anni è un altro intervento da monitorare con attenzione per accompagnarlo e correggerlo come necessario stiamo cominciando ora quindi dobbiamo valutarli in breve il percorso di studio dovrebbe no perché ti sento agitarti il percorso di studio il percorso di studio dovrebbe concludersi voi ditemi se c'è un momento in cui i tempi si devono contenere dovrebbe concludersi non è ancora arrivato il tempo con un rapido inserimento nel mondo del lavoro per questo nel corso del prossimo anno anche perché il meglio deve ancora venire secondo me c'è la parte che a me piace più ancora non è arrivata quindi abbiate un attimo di pazienza per questo nel corso del prossimo anno l'attenzione sarà posta sui decreti attuativi della riforma dei titoli di abilitazione avviata con la laurea in medicina e poi estesa ad altre professioni un altro intervento riguarderà la riforma degli ordinamenti didattici dei corsi di laurea incrementando la flessibilità e le competenze multidisciplinari con una speciale attenzione alle tecnologie digitali ai temi ambientali e alla costituzione dei cosiddetti soft skills cioè discipline applicabili a tutti gli ambiti diciamo di operatività a tutte le professioni il sistema universitario italiano viene spesso accusato di immobilismo ma siamo convinti che alla tradizionale qualità del nostro insegnamento sarà possibile affiancare processi di riforma innovativi come quello sulle classi di laurea che consentirà agli studenti di costruire percorsi con meno vincoli e doterà gli atenei di offerte formative più flessibili i dottori di ricerca in Italia hanno i più alti tassi di occupazione pari al 90,9 ma nel nostro paese solo una persona su mille tra i 25 e i 34 anni ha completato il percorso di dottorato siamo sotto la media europea che è del 1,5 su mille e molto al di sotto di quella tedesca che è del 2,1 il dato è sceso costantemente negli ultimi anni e non solo ogni anno il 20% dei dottori di ricerca 1 su 5 si trasferisce all'estero il risultato è una drammatica dispersione delle competenze sulle quali il nostro paese ha investito ma anche del potenziale innovativo della nostra società scongiurare questa costante minuziosa distruzione del nostro potenziale umano rappresenta per noi un imperativo categorico non lo dobbiamo solo ai nostri giovani che hanno tutto il diritto di mettere le proprie competenze a servito del loro paese ma a tutti noi cittadini contribuenti che attraverso le tasse finanziamo l'università e la ricerca settori in tutto il mondo giustamente considerati strategici per superare questi ritardi occorre concretizzare le riforme che hanno connotato la prima fase del PNRR dal 2021 a oggi come l'aumento della mobilità di figure di alto profilo tra università infrastrutture di ricerca e aziende o l'istituzione della figura unica del ricercatore universitario a tempo determinato che dovrebbe favorire l'accesso alla posizione di tenure track già immediatamente dopo il conseguimento del dottorato di ricerca è una sorta di effetto prenotativo di passaggio agevolato ecco appunto agevolando così l'emissione in ruolo dei candidati più meritevoli a un'età media più bassa allo stesso anche perché rispetto ai nostri omologhi europei e ancora di più americani diciamo anglosassoni noi rischiamo di arrivare al termine del nostro percorso di scolarizzazione anziani più grandi degli altri quindi anche il contenimento anagrafico è importante per fare la differenza sul mercato globale del lavoro per i nostri studenti ricercatori e dottori ecco dicevo allo stesso tempo dobbiamo attrarre in Italia talenti dall'estero sfruttando gli adeguamenti normativi sulle procedure per chiamate dirette di ricercatori e l'accoglimento di ricercatori esteri meritevoli per questo continueremo a promuoverlo abbiamo già fatto sempre in regime di PNRR progetti presentati da ricercatori vincitori di finanziamenti ERC European Research Council e di azioni Marie Curie e ricercatori insigniti del Silo of Excellence del sigillo di eccellenza garantendo risorse addizionali vogliamo sostenere le attività di ricerca di circa 2.100 giovani ricercatori entro il 2026 questi sono i nostri target e i primi 700 posti sono stati messi a bando negli ultimi mesi in attuazione del PNRR prevediamo di incrementare di oltre 20.000 unità le borse di dottorato entro il 2026 anche attraverso l'istituzione di tipologie innovative di dottorato per farlo abbiamo bisogno della collaborazione di tutti gli attori a partire dal sistema produttivo al quale in particolare sono indirizzati i dottorati innovativi industriali bisogna coinvolgere più imprese per far sì che i giovani ricercatori possano essere impiegati diffusamente aumentando il potenziale di qualificazione e innovazione del nostro sistema industriale anche dando piena attuazione alla misura che prevede un incentivo per le imprese che assumono ricercatori formati con borse PNRR per dare una continuità professionale esistenziale e scientifica a queste figure su questo saremo promotori di un'azione forte e condivisa verso le università e il mondo dell'impresa che dovranno essere fortemente interconnessi monitoreremo l'attuazione dei piani di reclutamento dei professori a un piano cospicuo sono 740 milioni annui a regime molto cospicuo che finanziano i costi dell'ulteriore personale a regime dal 2026 contiamo così di aumentare il numero di docenti per studente favorendo l'ingresso di nuovi ricercatori e professori sulla base dei risultati della ricerca nel nuovo ciclo quinquennale 2023-2027 finanzieremo i migliori 180 dipartimenti dipartimenti di eccellenza del sistema universitario statale e non statale per 1.355 1.355 milioni di euro il sistema universitario deve tuttavia andare incontro a un processo di riforma che non sia solo di contenuto ma sappia incidere sulle regole e funzionamento a più di 10 anni dall'adozione della riforma del 2010 si avverte l'esigenza di una riflessione sulla razionalizzazione della governance degli atenei ma anche sull'abilitazione e il reclutamento universitario la recente riforma del giugno 2022 ha introdotto molte novità come i gruppi scientifico disciplinari l'istituto del contratto di ricerca la figura del tecnologo a tempo indeterminato e la nuova figura unica del ricercatore a tempo determinato la riflessione da fare oggi riguarda la pilotazione scientifica nazionale e la capacità di assicurare soluzioni idonee a garantire continuità alle procedure e all'immissione nel sistema di ricercatori dotati di comprovata qualificazione scientifica è una riflessione necessaria anche in vista dell'adozione dei provvedimenti per rendere operativi i gruppi scientifico disciplinari che sostituiscono i macro settori concorsuali e settori concorsuali vecchi settori ssd settori scientifico disciplinari anche l'alta formazione artistica musicale coreutica i nostri conservatori gli accademi gli istituti superiori per le industrie artistiche ISIA stia cronimi ha un ruolo di primo piano per l'identità dell'Italia per gli elementi di storia e cultura che ci contraddistinguono se è nostro compito supportare con le giuste risorse la ricerca scientifica e l'innovazione tecnologica è tuttavia essenziale presidiare la bellezza e la tradizione umanistica come pilastri del made in Italy o come dicono gli afam del created in Italy per evidenziare ancora di più l'elemento della creatività la vocazione internazionale della nostra arte porta la nostra lingua e cultura in tutti i teatri d'opera del mondo costituisce il programma di alcuni degli eventi musicali più rinomati e attrae gli amanti del bello in mostre che dimostrano la grande capacità dell'Italia di celebrare il passato senza perdere l'istinto del design più innovativo l'afam è un'infrastruttura creativa dell'Italia dal grande valore educativo ma anche dall'enorme potenziale economico è una finestra sul mondo attraverso cui l'Italia è osservata riceve capitale umano circa il 15% degli iscritti agli afam è non italiano è straniero quindi è in assoluto l'istituzione che fa capo al nostro ministero più internazionalizzata e naturalmente consente all'Italia di uscire e di confrontarsi con il mondo ecco appunto è uno dei modi in cui l'Italia parla al mondo il sistema presenta storicamente un numero alto di iscritti stranieri lo abbiamo già detto che superano il 15% è un sistema che merita fiducia e attenzione lungo il processo di attuazione dell'autonomia attraverso la revisione e semplificazione della governance e la piena applicazione della riforma avviata nel 1999 quindi direi che è venuto il tempo di portarla a compimento numerosi temi saranno al centro della nostra attenzione l'offerta formativa il percorso di creazione dei politecnici delle arti una bellissima iniziativa una vera valorizzazione delle competenze dei docenti e della ricerca in ambito artistico musicale vi segnalo ma voi lo saprete perché riceverete sollecitazioni in questo senso che gli AFAM si sono sempre sentiti un po' disconfermati dal ministero hanno sempre avuto la sensazione di essere un po' figli di un dio minore non lo sono sono ripeto fortemente internazionalizzati non sono università questa è una delle tante vexate questione si vorrebbero chiamarsi università li chiamiamo accademie politecnici però hanno veramente un mondo di attitudini capacità talenti tutto da esplorare e valorizzare un nuovo ecosistema della ricerca questa è la parte che mi piace di più e poi stiamo avviandoci verso la conclusione vi vorrei rassicurare l'Italia ha l'esigenza di aumentare sia gli investimenti pubblici che quelli privati in ricerca di promuovere l'innovazione e la diffusione delle tecnologie di rafforzare le competenze favorendo un'economia basata sulla conoscenza è una sfida essenziale ancor più nel 2023 che è stato proclamato anno europeo delle competenze per farlo il PNRR ha posto le basi per la creazione di un nuovo ecosistema nazionale agendo sull'intero ciclo della ricerca e dell'innovazione con misure diverse sia per il tipo di reti tra università centri enti di ricerca e imprese sia per il livello di maturità tecnologica o TRL che sarebbe Technology Readiness Level livello di maturità tecnologica in coerenza con le tempistiche del PNRR sin dalle prime fasi di attuazione sono state avviate tutte le iniziative di ricerca di filiera partenariati estesi finalizzati alla realizzazione di 14 grandi programmi di ricerca per lo più di base su tematiche che richiamano le grandi sfide sociali in accordo con il programma Horizon Europe l'energia del futuro la cyber sicurezza l'healthcare per invecchiamento con la partecipazione obbligatoria di soggetti privati cinque centri nazionali che aggregano università statali enti di ricerca o altri enti pubblici o privati con attività di ricerca a TRL appunto ad elevata maturità tecnologica su cui su alcuni grandi temi supercalcolo infatti questa settimana sarà inaugurato supercalcolatore Leonardo con Cineca a Bologna tecnologie dell'agricoltura terapia genica farmaci a RNA la mobilità sostenibile e biodiversità 11 ecosistemi dell'innovazione filiere territoriali per attività di incubazione di impresa trasferimento tecnologico formazione e potenziamento della terza missione stretta connessione a terza missione tra università enti territoriale e mondo del lavoro mondo dell'impresa e del lavoro in un come posso dire in un mutuo circuito di alimentazione reciproca 33 infrastrutture di ricerca che hanno portato investimenti in laboratori infrastrutture distribuite e servizi digitali in linea con l'ESPRI European Strategy Forum for Research Infrastructures 24 infrastrutture di innovazione caratterizzate da partnership pubblico-private un tema che per la prima volta inizia ad essere affrontato anche dall'Unione Europea sul quale l'Italia ha avuto un ruolo di apripista l'Italia ha un ruolo di apripista su tantissimi settori iper innovativi e con questo concluderemo siamo fortissimi nello studio dell'universo siamo fortissimi nello studio della terra siamo fortissimi nello studio del mare siamo fortissimi punto scusate questo momento autocelebrativo la massa critica che ha risposto con successo ai bandi delle cosiddette iniziative sistemiche a numero importante parliamo di oltre 350 soggetti altamente qualificati rappresentativi del mondo delle università pubbliche e private enti di ricerca pubbliche e privati altri enti organizzazioni della società civile quasi 40 e oltre 200 imprese di varie dimensioni dalla start up altamente innovativa alla grande impresa nazionale e multinazionale seguiremo da subito con attenzione la realizzazione di questi progetti per ragionare sui loro punti di forza sulle loro lezioni per il sistema italiano su ciò che va migliorato in questi mesi il sistema della ricerca italiana ha dimostrato rapidità rapidità sui tempi di realizzazione con una buona pratica da diffondere il time to grant dalla pubblicazione del bando alla concessione dell'agevolazione è stato in media di sei mesi inferiore a quello della commissione europea che per i progetti Horizon Horizon Europe è di otto mesi lo sforzo del PNRR ha poi aumentato la capacità di fare rete tra università e enti di ricerca e imprese una logica da affinare per realizzare a pieno la terza missione dell'università per questo è fondamentale agire su monitoraggio e valutazione monitoraggio e valutazione due temi strettamente legati in particolare sarà necessario monitorare le attività in modo costante nel metodo e nel merito viste le ingenti risorse impegnate questo è come posso dire quella manutenzione PNRR a cui vi sollecitavo prima noi stiamo lanciando tanti progetti stiamo lanciando tante idee da questo momento in poi dovremmo essere molto attenti a valutare che cosa funziona che cosa funziona meno bene che cosa funziona così così e che cosa non funziona in particolare dicevo sarà necessario monitorare le attività in modo costante nel metodo o nel merito viste le ingenti risorse impegnate pari a 6 miliardi di euro per i 4 investimenti di sistema daremo grande rilievo alla sostenibilità e all'imprenditorialità affinché i nuovi soggetti creati con le risorse del PNRR possano realmente proseguire le attività la grande sfida avete capito è che succederà dopo il 2026 noi dobbiamo dare longevità a queste iniziative non ci può essere uno strapiombo che dal 2026 in poi quando le risorse dobbiamo mettercele noi paralizza iniziative diciamo di sviluppo e di crescita del nostro paese che sono state avviate attraverso il PNRR sintetizzo università e ricerca poi lascio naturalmente ci sono altre cose di cui avrei voluto parlarvi però capite non voglio abusare della vostra cortesia della vostra pazienza quindi lascio rassegno comunque la mia relazione rendendomi disponibile in qualsiasi momento ho un'interlocuzione su questi temi università e ricerca al centro dell'Europa e del mondo e questo è il tema in assoluto più attrattivo e prospettico del nostro progetto l'assetto europeo è parte integrante e ineliminabile della dimensione nazionale stare nell'Europa del futuro vuol dire stare in un contesto pienamente europeo per la formazione l'università e la ricerca penso al tema delle alleanze universitarie europee a cui partecipano attualmente 27 atenei italiani una nuova call Erasmus Plus è stata lanciata a settembre 2022 con l'obiettivo di arrivare entro il 2024 a 60 alleanze il ministero sta lavorando per supportare l'iniziativa europea per un futuro European degree anche per superare la difficoltà del riconoscimento dei titoli di studio tra i paesi membri dell'Unione Europea questo è sinceramente un problema tutto il sistema nazionale dell'alta formazione della ricerca deve diventare più attrattivo per l'estero ricordo che l'Italia stando ai dati OX del 2020 si ferma al 3% di studenti stranieri iscritti nei nostri atenei contro il 9% della Francia e l'11% della Germania per quello dicevo che l'AFFAM sono in assoluto una buona pratica un esempio virtuoso perché il 15% di iscritti stranieri è assolutamente sopra soglia rispetto alla nostra percentuale diciamo accademica nazionale di graduate e post graduate questa è la misura di ciò che ancora deve essere fatto perché si tratta di un indicatore fondamentale della forza e credibilità dell'Italia dobbiamo dare respiro internazionale al nostro sistema apprendo a studenti e studiosi che vogliano venire nelle nostre università e nei nostri centri di ricerca a partire dai paesi più vicini a noi con la diplomazia scientifica l'Italia può svolgere un ruolo chiave nei Balcani e nel Mediterraneo attraverso la cultura e la formazione in linea con la propria vocazione storica determinata dalla sua collocazione geografica penso ai ponti che possiamo costruire con queste aree del mondo creando legami duraturi e contribuendo a formare le loro classi dirigenti in situ in loco e penso ci sono già delle sedi universitarie in loco e penso a quanto aprire le porte delle nostre università a questi giovani sia un potente strumento di diplomazia e collaborazione internazionale anche per questo ritengo che il ruolo della rete degli addetti scientifici e culturali presso le nostre ambasciate d'Italia debba essere rinforzato intendo promuovere un dialogo costante con il MAECI con il Ministero degli Esteri per agire insieme lo stesso vale per la ricerca per questo il Ministero avrà un ruolo propulsivo all'interno dello spazio europeo della ricerca integrando sempre di più i lavori in ambito europeo con gli elementi nazionali con una forte impronta innovativa una particolare attenzione sarà dedicata alle tecnologie critiche penso ai semiconduttori su cui l'Europa si è data un programma importante il CIPSECT intendo potenziare la nostra attività su questo tema per dotare l'Italia dei migliori strumenti per rafforzare le capacità già presenti nelle università e negli enti di ricerca in particolare nella ricerca applicata gli avanzamenti industriali nel settore dei semiconduttori dipendono dalla ricerca ed è la ricerca di base applicata il vero motore della sovranità tecnologica pensiamo ad esempio al carburo di silicio di cui ST Microelectronics ha annunciato recentemente un nuovo impianto a Catania con la creazione di 700 nuovi posti di lavoro questa tecnologia è stata sviluppata grazie soprattutto al lavoro del CNR di Catania e al Consorzio Nazionale Interuniversitario per la Nanoelettronica altro settore di eccellenza del nostro Paese un esempio di come la ricerca possa costituire un'opportunità per il Sud e contribuire all'occupazione più qualificata o l'intelligenza artificiale che deve impegnarci su vari fronti si va dalla formazione col dottorato nazionale in Artificial Intelligence che mira a costruire una nuova comunità di giovani ricercatori in grado di dare impulso alla ricerca e all'innovazione industriale e sociale in Italia alla ricerca di base ai partenariati alle infrastrutture di rete e all'intelligenza artificiale è anche legato a un ambito di cooperazione internazionale per esempio attraverso il nostro memorandum con la National Science Foundation degli Stati Uniti che porterà al cofinanziamento Italia e USA di bandi dedicati non dobbiamo dimenticare e sto veramente arrivando alla fine che l'Italia ha grandi esempi di ambasciatori della scienza e della ricerca di costruttori della cooperazione multilaterale penso a Edoardo Amaldi uno dei ragazzi di Via Panisperta Marisperna che ha contribuito alla creazione non solo dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare vigilato dal nostro Ministero ma anche del CERN di Ginevra e dell'Agenzia Spaziale Europea nel solco di questi esempi l'Italia nei prossimi anni può avere un ruolo di primo piano sta avendo un ruolo di primo piano nelle grandi infrastrutture di ricerche europee il governo metterà il massimo impegno nel sostenere la candidatura italiana per ospitare un futuro osservatorio di onde gravitazionali in Europa l'Einstein Telescope per cui competiamo con i Paesi Bassi un sito in Sardegna merita il nostro appoggio istituzionale e diplomatico perché l'impatto economico e sociale di questo investimento e le prospettive che apre dal punto di vista scientifico possono accompagnare una nuova stagione di sviluppo la sfida di Einstein Telescope incarna l'attenzione per la scienza e la ricerca oltre il PNRR in una prospettiva ancora più ampia che ci porta al prossimo decennio inoltre ci mostra quanto la ricerca fondamentale possa cambiare il volto di un territorio infine penso che la costruzione di un nuovo ecosistema della ricerca in Italia non possa prescindere da un'attenzione per la comunicazione che deve avvicinare sempre di più la società a partire dalle donne e dai giovani a tutta la filiera della formazione della ricerca conclusioni in questo momento i ricercatori italiani studiano la struttura profonda dell'universo come il ruolo di nuovi materiali nelle applicazioni industriali e l'impatto dei cambiamenti climatici sono presenti dall'arcipelago delle Svalbard nell'estremo nord del pianeta come in Artartide nell'estremo sud fino ai laboratori del Gran Sasso il centro di ricerca sotterraneo più grande e importante del mondo sempre in questo momento il lavoro di tanti docenti pone le basi per l'avanzamento della cultura italiana e i riconoscimenti internazionali in questo preciso momento noi qui dobbiamo prendere un impegno verso di loro e verso i nostri concittadini l'impegno è investire continuativamente e strutturalmente sulla scienza sull'arte sulla cultura sull'università sulla formazione non esiste paese sovrano autonome proiettato verso il futuro che non sappia offrire una prospettiva seria di crescita e realizzazione delle proprie eccellenze in particolare alle nuove generazioni senza questa prospettiva che potenzi e metta frutto il soft power una comunità nazionale destinata a rinchiudersi e deperire abbiamo tutte le potenzialità per essere ai primi posti nel mondo grazie alle nostre menti migliori all'intraprendenza alla preparazione dei nostri ricercatori in qualsiasi settore e a quella forza immaginativa di cui parlava Parisi che vi citavo all'inizio ma dobbiamo essere ambiziosi e assumere con coraggio il compito di avere come farlo la valorizzazione del merito sembrerebbe scontato ma come ben sapete spesso non lo è investire sulle persone accresce lo spazio della democrazia consentitemi di considerare in senso a tecnico quella sulle persone non come una semplice spesa corrente ma come il più grande investimento in conto capitale un investimento sul futuro del paese che va monitorato e i cui effetti devono essere misurati valutati e corretti là dove necessario per questo servono risorse effettive e istituzioni presenti e vigili per questo ribadisco l'assoluta necessità di potenziare il ministero dell'università e della ricerca di conservarne l'autonomia seppure all'interno della collaborazione con l'istruzione che caratterizza i nostri due dicasteri e di porlo al centro di una rete che opera in sintonia tra industria imprese lavoro cultura e formazione nel contesto nazionale e internazionale uno degli obiettivi del mandato è contribuire a definire questa identità autonoma del nostro mandato di definire questa attività autonoma dell'università e della ricerca per farlo in modo compiuto bisogna presidiare meglio i dati essenziali per la ricerca e per tutto il sistema della conoscenza il PNRR attraverso la sua attuazione ultima pagina deve lasciare in eredità questo è importantissimo vi chiedo scusa un sistema complessivo di valutazione di esatta e concreta valutazione delle politiche pubbliche in questo modo con questa cultura dei dati e della valutazione con la vocazione internazionale che abbiamo cercato di delineare con la posizione di mettere in campo risorse adeguate il ministero potrà essere sempre più la casa degli studenti dei docenti e dei ricercatori in grado di venire incontro alle loro giuste aspettative la vera piattaforma per dare all'Italia quel futuro di sviluppo e conoscenza che corrisponde all'inventiva e all'intraprendenza che si sono storicamente riconosciute e per non deludere i nostri giovani spesso costretti nonostante la qualità culturale dei nostri atenei a cercare opportunità all'estero sarò felice se al termine del mandato potrò dire insieme al nostro ministero di avere contribuito anche in minima parte con la vostra collaborazione e il vostro costruttivo consiglio e supporto a rendere l'Italia della ricerca un polo più attrattivo e sempre più a servizio del paese grazie 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 ministro noi intendevamo il presidente Molicone darle la sensazione diciamo di stringere i tempi anzi siamo un po' siamo solo in movimento sulla sedia non siamo abituati a stare tanto tempo seduti ma invece sulle linee programmatiche credo che l'intera commissione sia senato che Camera avessero voglia di ascoltare abbiamo avuto il piacere di sentire quali sono realmente i primi passi e quelli programmatici per tutta l'intera legislatura su questo importante settore io mi permetterei di fare un saluto al presidente Molicone e invito i colleghi a iscriversi a parlare alla presidenza a chi vuole intervenire per ciascun gruppo fatelo in questo breve saluto del presidente Molicone in modo che iniziamo poi gli interventi per ciascun gruppo vi dovete iscrivere alla presidenza presidente Molicone grazie presidente Marti io ringrazio il ministro Bernini perché si è reso disponibile immediatamente la richiesta delle commissioni non era scontato visto che tutti i ministeri saluto il sottosegretario Montaruli tutti i ministeri erano ancora e sono in insediamento governo e parlamento e questa è la dimostrazione lavoreranno insieme per difendere gli interessi e tutelare sicuramente quelli degli studenti dei docenti riattivando il sistema universitario della ricerca nazionale la commissione e le commissioni saranno interlocutori della filiera dell'innovazione tecnologica che come abbiamo ascoltato la relazione del ministro è centrale anche per le nostre commissioni questo non a voler sottrarre nulla ovviamente alle altre commissioni che se ne occupano ma abbiamo ascoltato che tra partenariati estesi 5 centri nazionali 11 ecosistemi dell'innovazione 33 infrastrutture di ricerca e 24 infrastrutture di innovazione noi abbiamo l'innovazione come tema centrale anche delle commissioni cultura e appunto scienza e ricerca per quanto riguarda quindi le migliori le migliori politiche della filiera dell'innovazione tecnologica del settore della ricerca e quella della ricerca applicata cercheremo di promuovere migliori politiche pubbliche facendo da sollecitatori da collaboratori collaboratori del governo e aiutando anche a verificare laddove ci fossero ritardi in applicazione del PNRR o del rafforzamento della ricerca italiana ringraziando i colleghi e le colleghe presenti mi preme sottolineare velocissimamente alcuni aspetti sulle linee programmatiche i dati Eurostat ci dicono che ci sono 17 solo 17 lavorati su mille materie STEM questa è una sincronia nel contesto delle competenze che impatta direttamente il nostro ecosistema produttivo e che necessita di maggiori investimenti nonché incentivi a studiare nell'ambito un tema quindi che si pone anche con la revisione del numero programmatico delle facoltà per superare l'imbuto formativo il vulnus dell'AFAM che è stato citato in maniera assolutamente propria come eccellenza deve però oltre ai cronici problemi legati alla precarietà dei lavoratori anche nel settore musicale andare a risolvere il limbo con il ruolo delle accademie di belle arte che ancora appunto non sono riconosciute con il livello e il prestigio dell'università il ruolo del Consiglio Nazionale delle ricerche anche questo citato ampiamente nella relazione perno del sistema nazionale nei progetti per l'intelligenza artificiale troppo spesso sottovalutato e sottofinanziato dai governi che si sono susseguiti fino ad oggi ma che grazie al PNRR come abbiamo sentito potrà avere maggiori finanziamenti e maggiore attenzione ed è appunto stato citato dal Ministro come eccellenza nazionale quindi è importante dargli la maggiore centralità sul tema del trasferimento tecnologico chiave sarà sempre la più necessaria interazione fra il Ministero delle Imprese con i centri di competenza e il MUR ci sono stati casi importanti come il centro di competenza della Sapienza che punta di diamante della cyber security nazionale infine il tema della ricerca applicata diventa cruciale nella nuova declinazione della sovranità tecnologica digitale come citato appunto nel discorso anche di introduttivo del Ministro e con l'attrazione di nuovi investimenti che però passano dall'incremento delle competenze tecnologiche e dall'aggregazione con poli nazionali infine l'iniziativa CIP per l'Europa prevederà circa 3 miliardi per la formazione e la creazione di nuovi centri il Parlamento su questo sarà attivo insieme appunto alle due commissioni nel ricevere lo schema di regolamento nel modo più utile per aiutare la ricerca e avere appunto rafforzare questa autonomia strategica vi ringrazio e grazie Ministro Sì grazie al Presidente Mollicone adesso iniziamo con gli interventi partirei dal gruppo di Italia Viva con l'onorevole Grippo per 5 minuti non ho non avendo scritti a parlare del del Senato può consumarsi diciamo anche qualche minuto in più ma anche può finire prima diciamo va bene si cercherò di stare comunque nei tempi grazie Ministro ah perfetto grazie grazie per la per la disponibilità noi evidentemente la la parte diciamo di analisi della sua relazione non può che essere condivisa da tutti noi perché è chiaro che la la commissione non può non essere preoccupata per i dati che anche lei ha citato del basso numero di giovani tra i 25 e 34 anni che in Italia è laureato e anche il nostro basso posizionamento in Unione Europea solamente la la Romania è peggio di noi come dato come percentuale noi abbiamo solo il 29% dei giovani laureati solo la Romania sta peggio di noi dicevo e anche sui dati sullo stato dei finanziamenti alla ricerca purtroppo la percentuale di investimento rispetto al pile è bassissima in Italia abbiamo l'1.5% che è uno dei più bassi in Europa quindi ben venga diciamo la la sua intenzione di aumentare questo investimento non abbiamo ancora la granularità di quanto è stato diciamo disposto ieri e quindi una delle questioni che volevamo sottoporle evidentemente bene che ci sia continuità con diciamo il quanto contenuto nel PNRR e nell'agenda Draghi in materia di spesa per la ricerca però volevamo sapere se nella manovra che avete ieri liberato che avete dichiarato avere come obiettivo crescita e giustizia sociale vi è un investimento aggiuntivo sui temi che ci ha detto e quindi quanto poi viene destinato in particolare alcuni aspetti volevo sottolineare alcuni li ha già citati uno che ha appena citato il presidente Mollicone che è il tema delle STEM a nostro avviso dovrà essere presto anche oggetto di legislazione nazionale ci sono alcune normative regionali noi nel Lazio ad esempio ne abbiamo votata una nella scorsa legislatura ma sicuramente sia dal punto di vista del legislatore sia dal punto di vista del governo di legislazione investire su science technologies engineering e math delle donne ancora prima che dei ricercatori è una duplice priorità per il paese volevamo chiedere però quali azioni e cosa si pensa di destinare a questo specifico intervento il secondo aspetto che lei ha toccato è quello del supporto alla residenzialità per gli studenti che sappiamo ha detto bene essere una delle criticità avevamo noi ipotizzato e li porteremo in in aula una serie di misure per gli studenti fuori sede che vanno anche oltre gli stanziamenti logistici legati al PNRR perché l'autonomia abitativa porta con sé anche altri tipi di incentivi che possono essere alla base poi della mobilità sociale a cui lei faceva riferimento e anche geografica perché poi sappiamo che molto spesso per poter studiare i studenti hanno bisogno di mobilità geografica che è molto disomogenea nel paese e quindi siccome tra i servizi che mancano per gli studenti fuori sede sicuramente c'è il tema abitativo ma poi ci stanno temi sanitari amministrativi di mobilità chiediamo di conoscere quale altre misure si hanno in mente altro elemento lei giustamente citava l'attrattività degli AFAM a livello internazionale viceversa in generale l'attrattività internazionale delle nostre università è molto bassa gli studenti stranieri sono solo il 4-5% del totale e i nostri atenei risultano molto poco attrattivi pure in quelle materie faccio un esempio storia dell'arte archeologia dove saremmo destino naturale per qualsiasi studente del mondo ma ahimè mentre i nostri cervelli vanno a studiare altrove i cervelli del resto del mondo non ritengono attrattive le nostre destinazioni nonostante l'eccellenza degli atenei italiani quindi chiediamo di sapere quali misure si hanno in mente ad esempio per incrementare i corsi di laurea in lingua straniere quindi pur nel rispetto dell'autonomia universitaria incrementare questo tipo di modello e le altre azioni sui temi di internazionalizzazione inclusi evidentemente i corsi di italiano per studenti stranieri un altro tema è il tema sempre rispetto alla mobilità di ricerca e mobilità studentesca è il tema del riconoscimento e dell'equivollenza dei dottorati di ricerca uno dicevo l'equivollenza dei dottorati di ricerca dal 2021 è stato lasciato alle singole istituzioni universitarie la facoltà di valutare quali titoli e quali certificazioni sono necessarie affinché i dottorati vengano riconosciuti dai singoli atenei questo tema che è coerente dal senso dal punto di vista dell'autonomia e anche della competitività dei singoli poli della conoscenza è però estremamente difficoltoso per i nostri dottori di ricerca per i nostri intendendo italiani che sono andati all'estero a ricercare che faticano a vedere conosciuto lo studio estero costi di traduzione certificati molto diversi da ateneo ad ateneo ma anche per quelli che da fuori decidessero di venire da anni si fatica per trovare delle soluzioni che non le danno l'autonomia dell'università ma che comunque rendano facilitano questo processo e la interroghiamo per capire che cosa si ha in mente su questo onorevole dovesse venire qualcuno nel suo gruppo non potrà dire più una parola no no ma so che non verranno esattamente ultimo aspetto oggi il suo collega della pubblica istruzione ha fatto riferimento agli ITS che in realtà però sono diciamo competenza del suo di Castero e gli enti di no no ah non sta con ah no quindi se con razione etatis mi perdoni se l'ho interrotto razione etatis fino ai 18 sua e ai 18 in su mia esatto infatti io parlavo gli ITS che sono quelli di alta formazione quindi equivalgono agli universitari si 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 no no non parlavo della formazione professionale che invece è competenza regionale ed è competenza del MIUR no no io parlavo proprio degli ITS quindi formazione specialistica siccome lei ha fatto molto riferimento nella sua relazione al rapporto col mondo produttivo e al dialogo con le imprese ad esempio nella fase dell'investimento voluto dalla loro ministro Calenda di Industria 4.0 il dialogo fra formazione degli ITS e mondo produttivo ebbe dei grandi passi avanti ed è diciamo un aspetto sul quale appunto oggi si diceva si intende investire quindi volevamo sapere come si ritiene di investire su questo settore grazie mi scusi ultimissima domanda è relativa so anche questo essere a metà con altro di Castero che è il tema delle specializzazioni mediche però siccome ha fatto riferimento a questo tema e purtroppo noi sappiamo che moltissimi medici sono rimasti fuori dalla possibilità di specializzarsi nel sistema laddove invece c'era dal punto di vista del sistema paese una grande domanda di nuove professionalità ci sono stati vari atti nella scorsa legislatura volte a incrementare gli investimenti sui corsi di specializzazione e le chiediamo di sapere cosa si intende fare su questo settore e poi ma questo è per conoscere come la pensa sapere qual è la sua opinione sul numero chiuso a medicina grazie onorevole grippo onorevole latini per tre minuti grazie presidente saluto i presidenti ringrazio il ministro ringrazio anche il sottosegretario per la presenza grazie per questa relazione esaustiva che comunque ha toccato tutti gli ambiti di interesse per rilanciare proprio il settore universitario io sono stata assessore al regionale all'istruzione anche quindi all'università quindi sappiamo quanto è importante l'università quanto sono importanti gli atenei per il nostro territorio anche proprio per la crescita dei nostri territori e sappiamo anche il momento difficile che comunque gli atenei stanno attraversando soprattutto anche quelle dei piccoli comuni quindi sono veramente soddisfatta anche delle linee guida che si sta dando subito il ministero dell'università proprio per intervenire sull'accrescimento degli iscritti perché ecco come ha ricordato anche la collega che mi ha preceduto purtroppo noi come paese anche essendo uno dei paesi più colti uno dei paesi più belli con una maggior cultura ecco purtroppo soffriamo ancora di questo di questo gap perché noi abbiamo purtroppo solamente il 51% di iscritti a fronte di una media europea che è molto più alta che arriva al 58,7% e poi abbiamo anche il più elevato numero di NIT nel nostro paese e siamo anche ultimi per il numero di laureati quindi insomma c'è veramente da dare un diciamo bisogna veramente intervenire in modo concreto ministro come lei ha suggerito perché paradossalmente noi nel 2022 abbiamo un minor numero di laureati mentre invece in Europa questo numero sta crescendo quindi dobbiamo intervenire soprattutto sulle borse di studio perché anche questo è importante ad oggi in Italia solamente il 3% ha un posto letto e solamente l'1% alla fine poi se lo aggiudica realmente solo l'11% virgola 7 degli studenti risulta anche beneficiario di una borsa di studio e quindi ecco sentire lei che insomma vuole intervenire subito in questo ambito è veramente molto 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 importante quindi ecco benissimo anche fare un'osservazione per abbassare le tasse universitarie e per appunto dare maggiori opportunità ai nostri studenti in base al merito questo era uno dei punti che mi premeva maggiormente ecco sono arrivata a tre minuti avevo altri punti però mi interrompo e do spazio ai miei colleghi grazie ci sarà sicuramente l'occasione il senatore Crisanti per tre minuti signor Ministro la ringrazio per l'esaustiva relazione che è su molti punti in continuità con la passata legislatura su cui chiaramente noi non possiamo che rallegrarci di questa cosa io vorrei toccare in modo particolare un aspetto che lei ha evidenziato cioè che uno su cinque dei nostri dottorandi va all'estero ecco io vorrei sottolineare che va all'estero non per scelta ma per necessità per necessità per mancanza di opportunità e questa cosa è testimoniata dal fatto che gli stranieri non vengono in Italia non vengono in Italia per moltissime ragioni ma la cosa principale è che in Italia non ci sono opportunità obiettivamente né per gli italiani né per gli stranieri che volessero tentare una carriera accademica in Italia per fare ricerca e per in qualche modo farsi strada attraverso il merito nel sistema accademico italiano e mi permetta a questo punto voglio anche toccare su quello che lei ha detto sul PNRR cioè sullo scalino di finanziamenti che si relazirà dal 23-24 mi permetta però di sottolineare una cosa che tantissimi dei fondi assegnati dal PNRR non sono stati assegnati su base di competitività e questo significa lei sa benissimo che i centri di ricerca sono stati concordati attraverso i rettori degli universitari e se ne è presentato solo uno per argomento e più o meno la stessa cosa è avvenuta per i partenariati quindi noi abbiamo creato delle strutture autoreferenziali non in competizione che creano dei veri e propri centri di ricerca che sono a mio avviso degli ostacoli per la libertà di ricerca e per l'ulteriore inserimento senza contare che sottraggono poi finanziamenti a quei pochi finanziamenti già destinati alla ricerca quindi io su questo scalino ci rifletterei perché io vorrei vedere che questi centri a un certo punto dimostrino di avere dato qualcosa e debbano essere giudicati sui prodotti che hanno sui quali si sono impegnati a fare perché altrimenti perpetuarli è un danno e qui concludo grazie l'onorevole Cangiano per due minuti grazie presidente grazie signor ministro l'imbuto formativo rischia di causare deficit di personali in ambito specifici così come abbiamo visto anche durante la pandemia allora lei è stata sappiamo che lei è stata sempre ha dimostrato grande sensibilità su questi temi quindi noi chiediamo come provare a superare questa criticità eventualmente anche ampliando le maglie delle facoltà a numero chiuso quindi capire essendo già questo oggetto del nostro programma elettorale capire qual è la vostra posizione grazie grazie c'è l'onorevole Cattagno da remoto aveva chiesto di intervenire abbiamo visto senatrice chiaramente ho visto la manina oppure no sì ok prego sì sì grazie per la possibilità di intervenire buonasera ai presidenti buonasera ministro e grazie per il suo intervento e per l'entusiasmo io ho due punti che vorrei porre sul suo tavolo ma prima di farlo vorrei sottolineare che l'intervento che mi ha preceduto scusate da remoto non ho preso appunto sul nome del collega riguardante l'assegnazione dei fondi PNRR PNRR ahimè avvenuta per gran parte in modo non competitivo mi trova senatore Crisanti Crisanti grazie mi trova assolutamente concorde da qui discende la preoccupazione appunto per questa ridotta libertà e per queste strutture autoreferenziali che sono state create quindi credo che si debba tenere il faro puntato su questa situazione e capire se c'è ancora spazio per migliorare l'elaborazione detto questo torno ai miei punti sul per il ministro io ho sentito con piacere che lei ha citato la strategia italiana per la ricerca fondamentale un documento importantissimo che l'Italia non ha mai avuto a disposizione prima elaborato da un parterre dei studiosi assolutamente straordinari che disegna il futuro con suggerimenti con un programma e che punta a stabilizzare la spesa pubblica per ricerca e sviluppo a partire dal 2027 almeno a livello dello 0,7% del PIL ecco le chiedo se ha intenzione di dare continuità a questo lavoro al lavoro della commissione che ha elaborato questa strategia e se non ritiene necessario consultare subito direi gli estensori di quell'importante documento tra i cui ricordo esserci già citato premio Nobel Parisi come special advisor proprio con lei con il suo ministero per individuare le misure urgenti da mettere in campo quindi questo è un primo punto e il secondo punto lei ha citato la riforma del reclutamento dei ricercatori approvata e luglio scorso è una riforma importante che introduce la nuova figura del ricercatore a tempo determinato al posto dei due ricercatori di tipo A e di tipo B quindi chiarisce lisce e insomma è molto più esplicativa questa forma tuttavia c'è molta preoccupazione per la fase precedente per lo step precedente quindi per quel contratto di ricerca che è stato introdotto le preoccupazioni sono per una serie di motivi forse quella più rilevante che per come è ora è un contratto molto poco appetibile soprattutto perché è una posizione che la legge definisce utile per l'accesso alla pubblica amministrazione ma non all'università quindi sembra paradossale che si incardini presso l'università una figura che l'università non può valorizzare l'università vorrebbe vedere nel neodottorato una figura propedeutica alla ricerca e alla didattica ma in realtà questo contratto di ricerca non è utile o valorizzabile in tal senso anzi ricordo ai colleghi che oltre a questa mancata riconoscibilità viene impedito questo è paradossale viene impedito al contrattista di ricerca di per esempio partecipare come tutor ai laboratori didattici o alle commissioni di esami laboratori didattici sono attività retribuite che poi appunto il candidato colui che esercita questa attività può esibire in fase di concorsi nella sua progressione quindi questa esclusione preoccupa e anche preoccupa il fatto che si fissi il trattamento economico alla contrattazione collettiva della pubblica amministrazione con uno stipendio di 1600 euro nette che è assolutamente inadatto a reclutare si parlava prima reclutare i nostri giovani dall'estero o stranieri che volessero arrivare in Italia è assolutamente impossibile e infine e qui chiudo è anche una figura che erogando questo stipendio insomma salario minimo di fatto comunque prevede un costo datoriale molto maggiore rispetto alla figura precedente che era l'assegno di ricerca a risorse invariate dice la legge e mi chiedevo quindi la domanda la domanda per il ministro è se è stata fatta una stima di quanti siano gli assegnisti oggi e quanti si rischia di perderne con questa forma contrattuale dall'elevato costo datoriale e che però fornisce quel tipo di salario che mi sembra veramente minimo per un ricercatore giovane e quindi si è stata fatta una stima di appunto se non stiamo correndo dei rischi di perdere giovani e la preoccupazione che sento insomma in università nelle varie università è che il neodottorato si troverebbe probabilmente in un buco nero quindi di fronte a pochissime posizioni in contratto di ricerca con una competizione altissima da parte degli attuali assegnisti che comunque rischiamo di perdere perché a risorse invariate o comunque anche immaginando la grande quota di queste posizioni che vengono caricate sui grants vinti dagli studiosi beh se il costo è aumentato ci stanno meno posizioni mi chiedo ministro se lei appunto abbia in mente di alcune riflessioni oppure qualche intervento o elaborazione ulteriore per migliorare questa posizione grazie grazie onorevole piccolotti grazie presidente grazie ministra della sua relazione che appunto è molto in continuità con quanto impostato dal precedente governo e come lei capirà essendo sinistra italiana e verde all'opposizione del precedente governo per molti aspetti per quanto ci riguarda una linea non sufficiente ad affrontare i tanti problemi dell'università italiana e della ricerca italiana lo dico perché come giustamente lei ha ricordato nella relazione noi abbiamo un numero bassissimo di laureati e molti problemi rispetto alla quantità troppo bassa di studenti italiani che continuano il loro percorso dalle superiori passando all'università e abbiamo purtroppo anche una spesa delle famiglie per l'istruzione che va via via calando segno che questo è veramente un dramma per il paese le famiglie continuano cominciano a non avere più fiducia nel fatto che l'istruzione la laurea l'università il titolo di studio possano rappresentare un elemento di miglioramento delle proprie condizioni di vita naturalmente questo accade perché sul terreno del mercato del lavoro ci sono decine e decine di migliaia di giovani laureati che hanno dei salari da fame che fanno dei lavori malamente retribuiti e quindi si va innescando un meccanismo per cui le famiglie italiane si convincono che l'investimento molto oneroso nell'università non verrà poi ripagato dal percorso che segue è per questa ragione che la prima questione che ne voglio porre naturalmente non potrò intervenire sul complesso della sua relazione riguarda il diritto allo studio noi sappiamo che ci sono decine di migliaia di ragazzi che non possono permettersi di affrontare le spese necessarie a frequentare l'università e molto spesso non possono permettersi di spostarsi da una città all'altra e allora noi le chiediamo non solo di aumentare un po' l'ammontare delle borse di studio ma di riflettere sulla necessità di mettere in campo una strategia che renda l'università per chi la frequenta e la conclude nei tempi gratuita da tutti i punti di vista gratuita dal punto di vista dell'alloggio gratuita dal punto di vista delle tasse universitarie gratuita rispetto al welfare studentesco che va costruito per garantire che i giovani e le giovani italiane possano davvero godere fino in fondo del diritto allo studio e non considerarlo come giustamente lei ha detto un privilegio questo significa naturalmente anche fare investimenti sul launching universitario come l'ho sentito dire lei parla di 50.000 nuovi posti e dice è un mercato che va costruito e va aperto lo dice perché il PNRR prevede una partecipazione dei privati molto forte su quest'operazione di housing universitario e quindi le chiedo se non sia meglio invece immaginare di investire queste risorse su un housing pubblico che resti di proprietà delle università e che possa costituire una ricchezza da mettere a disposizione anche in maniera gratuita per tutti gli studenti e le studentesse l'altra cosa che le chiedo anche alla luce del fatto che nella mia regione all'università di Perugia attraverso una politica attenta sul diritto allo studio e una politica molto diciamo avanzata sul numero chiuso le iscrizioni all'università sono molto aumentate noi sappiamo che il numero chiuso è un ostacolo sì nel senso che è stato tolto il numero chiuso su tutte le facoltà su cui si poteva togliere e questo ha fatto sì che l'università di Perugia che aveva un drammatico calo di iscrizioni oggi invece abbia un aumento degli iscritti è una politica molto interessante che ci sentiamo di valorizzare le chiediamo non solo che cosa pensa del numero chiuso diciamo in generale ma soprattutto anch'io mi associo alla domanda della collega che cosa pensa del numero chiuso a medicina perché abbiamo dei dati molto preoccupanti sul turnover dei medici sappiamo che ci saranno nei prossimi 10 anni 80.000 pensionamenti già oggi mancano i medici di famiglia non si capisce perché continuare su una politica che non ci permette nemmeno di avere diciamo i medici di cui il paese ha bisogno ultime due questioni la penultima mi collega direttamente all'intervento della senatrice Cattaneo io penso che abbia ragione diciamo su tutte le cose che ha detto le preoccupazioni che ha avanzato rispetto agli effetti di una riforma che è buona la riforma del reclutamento che stabilisce appunto i nuovi contratti il nuovo contratto per i ricercatori è buona ma a risorse invariate a costo zero rischia di produrre il calo dei posti da ricercatore di circa un terzo è una riforma che non si può applicare a risorse invariate ci sono movimenti dei ricercatori che hanno fatto una stima di quanti siano i ricercatori che rischiano già da gennaio di perdere il proprio contratto di non trovarne un altro sono circa 5.000 su 15.000 quindi io le chiedo come le ho già chiesto nel question time che tipo di misure vorrà prendere per garantire una corretta transizione e in particolare le suggerisco naturalmente un aumento delle risorse anche sui PRIN che non sono ancora stati assegnati ma che sono in discussione perché sono PRIN che sono stati pensati sui precedenti costi datoriali ultima domanda lei ha parlato di una modifica dell'abilitazione scientifica nazionale ma non ha dato indicazioni chiare su quali saranno i cambiamenti sulla eventuale riforma degli indicatori siccome l'ultima finestra per conseguire questo titolo scade a febbraio io le chiedo di avere qualche chiarimento in modo che per l'appunto gli interessati possano anche calibrare diciamo la loro carriera e il loro lavoro in modo da avere contezza dei nuovi indicatori e prepararsi e non perdere e non avere un rallentamento della propria carriera dentro l'università grazie grazie adesso onorevole caso per 5 minuti grazie presidente ministro innanzitutto ovviamente i nostri auguri di buon lavoro per il suo incarico ho ascoltato con attenzione ho preso diversi appunti ho ascoltato con attenzione il suo intervento ovviamente la prima cosa che mi viene da dire è che meno male che c'è il PNRR perché di fatto è chiaro che si prosegue ma probabilmente non poteva essere altrimenti sulla linea tracciata dall'ultimo dal precedente governo perché al di là di quanto previsto nel piano non mi sembra di aver sentito variazioni adesso ne sentito parlare di ulteriori fondi ma anche sentendo proprio l'ultima conferenza stampa del del capo del governo dove non ho sentito la parola università e ricerca vado al dunque mi sembra che in realtà piena consapevolezza della responsabilità che ha con la sua nome a ministro dell'università e ricerca in quanto mi sembra che è chiaro anche a lei e sono molto contento di questo che quando parliamo di università e ricerca ovviamente parliamo anche di innovazione sviluppo sociale economico e culturale dell'intero paese ma anche dei singoli territori e penso che sia chiaro che l'università ma in realtà tutta l'istruzione come possa essere in realtà è proprio il primo strumento con cui si può costruire un paese più equo e più giusto ma allo stesso tempo purtroppo viceversa potrebbe anche alimentare le disuguaglianze e le ingiustizie al momento i dati mi sembra che sono chiari a tutti non sono dalla nostra parte l'Italia è il paese europeo purtroppo ultimo all'ultimo posto in classifica per quanto riguarda i finanziamenti all'educazione all'interno dei quali è proprio l'università e la ricerca che fanno scendere a picco il nostro paese ci sono diversi diverse nazioni in Europa che tristemente ci addirittura doppiano e questo è una prima conseguenza ed è chiaro a tutti è proprio il miglior numero di laureati dove in Europa siamo anche qui in coda vediamo solo dopo la Romania fortunatamente però dei cambi di rotta ci sono in realtà ancora prima del PNRR proprio dai governi Conte in cui c'è stato questo investimento di rotta rispetto al taglio dei finanziamenti che erano partiti nel 2009 ovviamente ora abbiamo tutte queste nuove opportunità offerte dal PNRR ma condivido con lei che il tema che lei ha chiamato il tema è proprio quello che accadrà dopo il 2026 il continuare a investire ma soprattutto non solo questo ma capire anche come si implementano le cose perché abbiamo visto come il PNRR ci dà la via ma l'implementazione può essere ostacolato o altri può creare delle distorsioni che più avanti magari mi farebbe piacere approfondire in realtà non parliamo solo di problemi sulla quantità ma proprio sulla qualità perché andando a vedere la distribuzione delle nostre dei finanziamenti all'interno del mondo universitario e della ricerca in realtà ci fa capire che non solo spendiamo poco ma spendiamo proprio male proprio perché il meccanismo che abbiamo legato alla distribuzione dell'FFO purtroppo ha creato dei circoli viziosi non circoli virtuosi come auspicava lei per cui chi ha più risorse più ne riceve mentre chi ha meno sembra quasi destinato a sprofondare sempre più così lo stesso meccanismo che ha purtroppo e questo è sotto gli occhi di tutti l'abbiamo visto creato un grande grande divario tra l'università del nord e del sud di questo paese abilitando una mobilità a senso unico chiaramente esclusivamente a senso unico dal sud verso il nord se non all'estero ovviamente in questo caso chi si sposta chi ha questa possibilità è ovviamente chi fa parte di famiglie che fin tanto che non si interviene di famiglie con condizioni economiche migliori e chi ha più opportunità non certo in questo caso va avanti il merito quindi ritornando a noi ovviamente quindi solo l'incremento dei finanziamenti non basta è necessario intervenire su dei correttivi per la distribuzione delle risorse e risolvere dei problemi perché e qui mi collega a quanto detto sia dalla senatrice che dalla collega Piccolotti su alcune cose che stanno accadendo e su che è necessario intervenire ad oras perché abbiamo visto che seppur si vuole con buone intenzioni seppure le intenzioni sono ottime si può andare a finire e creare degli effetti che possono essere da un lato molto preoccupanti e parlo proprio della riforma del cosiddetto PNRR bis che tra le varie come diceva anche lei è andata a riformare la figura del ricercatore ma soprattutto è andata a intervenire sugli assegni di ricerca e questo argomento ce l'ho molto a cuore era un assegnista di ricerca fino a pochi mesi fa in realtà l'effetto in questo caso doveva essere abbastanza chiaro perché si è semplicemente cambiata la modalità passando ed è un bene da assegni senza dei diritti senza delle tutele a dei veri e propri contratti il problema come si diceva è che la riforma è stata fatta a costo zero e quindi l'equazione diventa ovvia se c'ho contratti più costosi ma ho sempre gli stessi finanziamenti di conseguenza avrò meno contratti e i numeri ci sono c'è il rischio di perdere almeno un terzo degli attuali assegnisti di ricerca di sicuro lei questa cosa già la sapeva ancora prima che noi intervenissimo perché proprio mi unisco a quanto detto prima l'argomento è venuto fuori negli ultimi giorni negli ultimi mesi grazie soprattutto ai miei ex colleghi agli assenisti di ricerca riuniti anche nel coordinamento Restrike che stanno provando ad attenzionare questa cosa in realtà le soluzioni devono essere individuate subito e sono ovvie spesso basterebbe e anzi spesso basta ascoltare ovviamente la proroga bisogna dare un tempo maggiore del periodo di transizione tra il vecchio e il nuovo ovviamente l'incremento delle risorse per coprire i maggiori costi e aumentare in realtà proprio in linea di massima già dalla prossima finanziare il fondo di almeno un miliardo non sarebbe male ovviamente e su questo mi avvio a conclusione mi scuso se posso aver rubato del tempo bisogna intervenire su tante tante cose e le soluzioni non sono semplici ho sentito poco parlare degli enti pubblici di ricerca lì bisogna intervenire perché ci sono delle cose sospese abbiamo sia la legge ma soprattutto anche l'articolo 12 bis che danno due vie per la stabilizzazione dei nostri ricercatori ma sembra che queste vie vengano ostacolate quindi sarebbe buono capire come intervenire in questo modo se legge a qualche idea ma comunque c'è anche il bando FIS che era proprio per sostenere lo sviluppo delle attività e la ricerca fondamentale che è concluso ma sembra che i risultati non vogliano uscire e stiamo attendendo da quasi un anno mi permetto anche di un appello ad un appello che probabilmente non riguarda il suo ministero magari non solo esclusivamente il suo ministero è che quello di iniziare a muoverci e trovare una soluzione per gli studenti e permettere gli studenti fuori sede e permettere il voto ci lamentiamo tanto dell'assenzionismo magari se facciamo squadra visto che in genere si tratta di studenti universitari potrebbe essere un'ottima cosa dopo questo veramente arrivo a conclusione quindi ministro se lei segue la via che in realtà condivido in tante delle cose che ha detto da questa parte troverà ovviamente un'opposizione costruttiva e pronta a lavorare e a confrontarsi ma abbiamo visto che da un lato ci sono le parole dall'altro ci sono i fatti e ci sono i dettagli e le loro attuazioni quindi se da un lato ci ritroveremo un ritorno magari ai tagli che non me ne vogliate purtroppo hanno contraddistinto spesso i precedenti governi centrodestra oppure se non si mette mano a questo divario che è chiaro l'ha detto lei tra nord e sud da questo lato troverà un gruppo che è pronto a non farle sconti e a scendere diciamo al fianco delle migliaia di persone che vedono nell'università come dicevo all'inizio proprio quello strumento che ci deve permettere di rendere il nostro paese più è grazie però vi prego non abusiamo dei tempi perché stiamo andando bene ma se ci allunghiamo poi nonorevole Di Maggio grazie presidente e grazie signor ministro per l'informativa precisa e puntuale noi riteniamo molto importante l'impegno sulla ricerca che lei ha profuso nelle sue linee guida all'interno della sua relazione programmatica e anche rispetto ai passati governi le chiedo a tal proposito come intende garantire l'attrattività in Italia per quelli che sono i fondi europei da destinare alla ricerca in tal senso porterebbe anche ad una maggiore partecipazione dei ricercatori italiani ai progetti di ricerca europei e questo permetterebbe di consolidare anche il sistema universitario italiano all'interno della comunità scientifica europea ed internazionale grazie grazie onorevole Miele grazie presidente grazie ministro grazie colleghi beh la sua esposizione è stata chiara e precisa le sue linee programmatiche ci rimandano un'idea di sviluppo e un'idea di futuro che sicuramente per i nostri giovani sarà garanzia di rimanere in questo paese però quello che ci racconta è di un'Italia che è penultima in Europa per percentuali di giovani laureati ed è questo il dato su cui noi dobbiamo lavorare e da cui dobbiamo partire il PNRR prevede misure specifiche sicuramente per rafforzare l'istruzione anche attraverso la misura dell'housing tuttavia i fondi messi a disposizione non sono sufficienti a controbilanciare finora tasse universitarie tra le più alte in Europa e l'anomalia di studenti che avrebbero diritto ad una borsa di studio ma non la ottengono per mancanza proprio di fondi in Italia si deve ribaltare questo dato che ci racconta di abbandono rinuncia a ritardo e a tal riguardo caro ministro così come lei ci ha espresso in maniera così decisa dobbiamo ampliare il numero degli studenti e l'offerta formativa e in secundis collegare l'università e gli studi in generale con il mondo del lavoro soprattutto per quello che riguarda il sud come lei ci ha sicuramente detto tutto ciò ci riporta a un tema già dibattuto che è quello del numero chiuso nelle iscrizioni per l'iscrizione e l'accesso quindi alle università ed è emblematico proprio per riunire due mondi che devono lavorare necessariamente insieme quello lavorativo e quello formativo a tal proposito mi viene appunto in mente l'università medicina quindi le università che hanno specializzazioni sanitarie e i dati sono allarmanti i medici dal 2019 al 2021 i medici di medicina generale sono ridotti di almeno 2.000 unità infermieri i medici di base e le calenze principali le abbiamo proprio in medicina d'urgenza e il covid ce ne racconta ce ne ha raccontato sicuramente più di quanto possiamo raccontare noi oggi tra le cause più evidenti di questa mancanza le cause più evidenti le possiamo ritrovare nel pensionamento quindi manca il turnover e non dobbiamo assolutamente assistere come è già capitato a bandi che vanno deserti proprio per l'assunzione e per il collocamento dei medici e non dobbiamo per ritornare invece proprio all'indirizzo di studio non dobbiamo non citare e non raccontare il fatto che molti giovani non rinunciano ad entrare a medicina ma vanno a studiare all'estero in altri stati in Europa quindi diciamo costringendo le famiglie ad esporzare soldi tanti soldi e soprattutto a vedere molti dei nostri professori universitari ad andare a collocarsi proprio in università estere per far fronte alle grandi richieste di iscrizione che vengono anche da giovani studenti italiani e questo ci rimanda al precariato che come hanno già detto i miei colleghi in precedenza è un dato allarmante in tutta Italia in tutti i settori l'Italia negli ultimi anni ha visto andare via quindi migrare moltissimi ricercatori che non rimane che nonostante siano eccellenze e nonostante siano tra le persone e gli specialisti più premiati in Europa sono costretti ad espletare le loro funzioni e il loro lavoro all'estero competenze eccellenze che quindi vanno via sono perdite gravissime quindi il reclutamento universitario come lei ha ben detto ha bisogno di un tagliando anche economico e soprattutto economico siamo passati da contratti atipici contratti piramide fino ad arrivare a quest'ultimo contratto a tempo determinato che a quanto pare però non può essere la soluzione così com'è senza avere ulteriori fondi a disposizione concludo dicendo che abbiamo piena fiducia nel suo operato a partire dalle sue linee programmatiche che rispondono alle esigenze di un settore strategico come quello che riguarda quindi i nostri giovani ma anche il nostro futuro e per il quale sappiamo che il suo impegno sarà garanzia di cambiamenti certi garantiti grazie grazie l'onorevole Miele è costretto poi l'onorevole Sasso il suo capogruppo a chiudere con 25 secondi non sto scherzando l'onorevole Amorese sì grazie intanto ringraziamento al ministro Bernini per aver dato seguito immediatamente all'invito della commissione del Parlamento insomma a presentare le linee programmatiche che i fratelli d'Italia approva tra l'altro a proposito di differenziazioni non per niente avevamo assistito in passato a un'attesa un po' più lunga e sempre a proposito di differenziazioni con il recente passato beh l'aver rafforzato un'idea che era anche nostra di andare oltre l'emergenza del PNRR ci convince saluto il sottosegretario Montaroli che su questo insomma ha fatto delle battaglie nella precedente legislatura a favore di dottorandi ricercatori ricercatori applicati e tutto il mondo accademico a tutto tondo così come mi sembra una differenziazione importante il voler visitare la governance globale dell'università italiana penso e questi sono uno dei tre spunti che le daremo che ci sia una necessità per esempio di arrivare a una differenziazione importante tra le facoltà scientifiche e le facoltà umanistiche tra l'altro le seconde spesso soccombono in ricerca ma in realtà spesso anche in modalità di didattica aggiungo due domande ma che sono insomma più che altro due considerazioni la prima è riguardo al sistema del concorso universitario per professori di primo e di prima e seconda fascia perché insomma lo sanno tutti tema anche recente delle grandi di quantità di ricorsi al tar quindi spesso sta la magistratura a decidere poi chi lavorerà e chi no ma poi anche i criteri spesso oggettivi e questo sono due termini che a volte non vanno di pari passo determinano delle situazioni poco ortodosse quindi crediamo che ci sia una necessità di una revisione di questo sistema chiudo dicendo che sulle scuole legali secondo noi se le scuole legali cioè quindi la formazione post laurea soprattutto in giurisprudenza spesso la trovano gli studenti superata perché poi ognuno se la fa con i propri studi legali di riferimento noi crediamo invece che ci sia una necessità di un rilancio di queste scuole legali pirondini per dovrebbero essere 26 secondi ma facciamo 2-3 minuti forse 26 ma prometto che sarò estremamente sintetico buonasera ministro buonasera presidente a tutti gli intervenuti lei prima ministra nella sua relazione ha citato i titoli AFAM e mi fa piacere quindi fare una domanda specifica sui conservatori perché i conservatori che facciano parte del ministero della pubblica istruzione precedentemente alla riforma poi diventano facenti parte del ministero dell'università e vengono anche parificati i titoli quindi tra i conservatori e le università cosa secondo me è assolutamente corretta e doverosa ma dal punto di vista del percorso di studio credo che questa riforma abbia creato una sorta di ibrido che ad oggi è veramente poco chiaro perché la riforma nel percorso proprio interno di studi ha creato una via di mezzo tra quello che era il precedente il cosiddetto vecchio ordinamento dove si arrivava fino a dieci anni di corso per completare gli studi quindi un percorso di studio molto lungo e faticoso e un certo se mi consente il termine scimmiottamento del percorso invece universitario che però non ha trovato una reale applicazione concreta ed importante all'interno dei percorsi dei conservatori questo genera diverse difficoltà perché spesso chi termina il percorso di studi nei conservatori non ha un livello spesso non sempre un livello tale per cui possa inserirsi con facilità all'interno del mondo del lavoro che poi prevede altre criticità che magari analizzeremo tra qualche giorno con il ministro San Giuliano e questo secondo me è un tema molto importante perché quando lei ricordava prima la percentuale di persone di studenti che vengono dall'estero per studiare in Italia è evidente che quel settore strategico dal punto di vista dello studio è qualcosa su cui dobbiamo investire con grande riconoscenza per la storia culturale del nostro paese e con grande attenzione quindi io semplicemente le chiedo qual è il vostro intendimento qual è la vostra idea sulla riforma spero possibile dei conservatori c'è un importante sovrintendente di una importante fondazione lirica italiana che definisce i conservatori degli incubatori di infelicità e credo che la scuola non debba essere questo ma il senso di frustrazione che si ha a fare determinati tipi di studi che poi non trovano sbocchi lavorativi purtroppo molto spesso genera anche infelicità e insoddisfazione nelle persone e credo che sia qualcosa che dobbiamo combattere grazie grazie passo la parola all'onorevole Sasso per 21 secondi grazie grazie presidente è un piacere essere qui con lei con il presidente Mollicone un saluto al ministro un saluto al sottosegretario un saluto ai vecchi e ai nuovi colleghi delle commissioni cultura congiunte Camera e Senato con l'augurio di buon lavoro a tutti quanti noi e l'auspicio che lo si possa fare nello stesso spirito di collaborazione e di condivisione che c'è stato soprattutto nell'ultima parte della scorsa legislatura quando cito un esempio su tutti all'unanimità approvammo quella bella legge che aveva la mia tra le prime firme sull'abrogazione del reggio di vieto di iscrizione contemporanea a due corsi di laurea in parole povere andiamo a garantire a 30.000 studenti la possibilità di ottenere il double degree anche in Italia e non solo andando a iscriversi in facoltà straniere ministro bene 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 vari passaggi mi soffermo per motivi di tempo su due passaggi in particolare anzi su uno facciamo su uno in particolare che è quello che ho sentito essere condiviso anche con altri colleghi che è quello sugli studenti fuori sede è un dramma io vengo dalla Puglia ma non da poco da sempre è sempre stato un lusso vedere i figli vedere i fratelli vedere i ragazzi partire andarsi a iscrivere nelle facoltà di una media provincia italiana oggi costa tra le 6 e le 900 euro non parliamo poi di iscrivere a Roma o a Milano diventa davvero un lusso laddove il diritto allo studio costituzionalmente tutelato dovrebbe essere garantito a tutti io a differenza di chi mi ha preceduto non ho la fantasia la presunzione un po' utopica di prevedere l'università gratuita per tutti perché è giusto che i figli dei ricchi paghino magari aumentiamo le borse di studio per i più meritevoli aumentiamo l'edilizia universitaria diamoci da fare con gli enti locali e soprattutto cerchiamo di utilizzare un po' più di rigidità dei controlli per abbattere gli sprechi di sedicenti corsi di laurea che hanno albergato per decenni nelle università italiane e con negligenza imputabile ad una determinata parte del mondo accademico ora lungi da me la voglia di far polemica ma davvero un appello accorato affinché ai circa 300.000 studenti fuori sede venga data una chance in più soprattutto per i più meritevoli affinché la scuola e l'università possano essere un ascensore sociale non a pagamento però ribadisco è giusto differenziare i figli dei ricchi dai figli dei poveri l'università gratuita per tutti non è nelle cose terrene non è nelle cose realizzabili buon lavoro ministro buon lavoro a tutta la commissione cultura di camera e senato grazie presidente grazie onorevole sasso siamo agli ultimi due interventi il senatore Verducci per sette minuti e chiuderà la senatrice Buccaro con cinque minuti grazie presidente grazie a lei signora ministro per questa sua audizione mi faccia dire a nome dei gruppi del partito democratico delle capigruppo Delia e Manzi noi le auguriamo di fare bene da noi troverà un atteggiamento molto determinato un'opposizione molto determinata ma mai pregiudiziale la incalzeremo in maniera costruttiva la incalzeremo sempre nell'interesse del paese e ci troverà nella battaglia che è decisiva per il paese per mettere al centro dell'agenda politica diritto allo studio università ricerca mi faccia dire signora ministro che noi oggi non siamo rassicurati da questa giornata e non per la sua relazione la sua relazione ha posto in maniera molto corposa i contenuti soprattutto del PNRR su questo mi faccia dire ci sentiamo sulla vertenza per ottenere il PNRR quegli investimenti pubblici così importanti più titolati noi dell'opposizione che non l'attuale capo del governo però non ci sentiamo rassicurati perché in questa giornata c'è stata la presentazione della legge di bilancio questi temi se non trovano riscontro nella legge di bilancio non andranno da nessuna parte noi vogliamo che abbiano riscontro in quella legge di bilancio e però la Presidente del Consiglio dei Ministri nella conferenza stampa non ha speso nessuna parola su scuola università diritto allo studio ma nel nostro paese chi non è messo ovunque chi non è messo nelle condizioni di studiare non è messo nelle condizioni di realizzare il proprio progetto di vita di andare avanti di emanciparsi mai come oggi al tempo della rivoluzione digitale il diritto al lavoro il diritto alla competenza sono tutt'uno e chi non è messo nelle condizioni di studiare è escluso e oggi chi viene dalle fasce più deboli rischia di essere escluso il tema dell'accesso all'università è tutt'uno con l'abbandono e la dispersione scolastica per noi questo è il primo tema quello di come dare continuità agli investimenti per il diritto allo studio noi siamo orgogliosi del lavoro che abbiamo fatto in questi dieci anni perché dal 2013 quando i fondi per il diritto allo studio erano 149 milioni oggi nel 2022 sono 308 milioni per aver introdotto nel nostro paese la no tax area e averla progressivamente estesa a sostegno delle famiglie che più hanno bisogno ma la pandemia colpisce durissimo e allora sappiamo quanto la riduzione degli iscritti quanto siano esorbitanti i costi per i studenti fuori sede perché quella pandemia ha portato anche a costi esorbitanti per gli affitti a un costo esorbitante nel mercato immobiliare il primo tema che noi qui poniamo assolutamente è quello del diritto allo studio di aumentare il numero delle borse di studio ma soprattutto l'entità delle borse di studio che oggi è minata dai costi insostenibili dell'inflazione le chiediamo di estendere la notaxaria le chiediamo maggiori risposte sulle residenze pubbliche universitarie trova queste cose signora ministro e lei lo sa nell'indagine conoscitiva sulla condizione studentesca e il precariato dell'università che nella scorsa legislatura abbiamo approvato il tema del welfare studentesco di poter studiare è l'assoluta priorità e su questo le chiediamo una risposta sul decreto che attendiamo sui livelli essenziali delle prestazioni per il diritto allo studio perché c'è il rischio di desertificare in particolare i territori più deboli e in particolare quelli del sud signora ministro mi permetta di dire nella sua relazione non abbiamo trovato il tema del lavoro della ricerca eppure il precariato nella ricerca è uno dei grandi temi della questione sociale che abbiamo e della questione universitaria che abbiamo nel nostro paese la riforma dello scorso luglio perché è una riforma per la prima volta dopo vent'anni ha dato dignità al lavoro della ricerca cancellando quell'assegno di ricerca che tutti i ricercatori di base hanno individuato come l'elemento precarizzante per cui venivano sono parole loro non mie masticati e sputati dopo oltre 15 anni di precariato noi abbiamo cancellato l'assegno di ricerca e al posto di quell'assegno oggi c'è un contratto di ricerca che per la prima volta dà dignità al lavoro della ricerca l'assegno era di 1400 euro il contratto di ricerca non solo è di 1700 euro ma è lavoro subordinato con tutte le tutele e allora il tema non è vedere a rovescio quello che è avvenuto siccome questo questo contratto costa molto noi faremmo un danno non solo a migliaia di ricercatori ma al nostro paese se tornassimo indietro lo facessimo costare di meno come un tempo e tornassimo alla precarietà di un tempo no il problema è che nottetempo la ragioneria ha inserito in quella riforma un vincolo di invarianza finanziaria questo è il tema non tornare indietro andare avanti finanziare questa riforma e metterla in sicurezza intervenendo a partire dalla legge di bilancio e concludo aumentando l'FFO per la ricerca di base dei dipartimenti per il contratto di ricerca chiediamo e chiederemo almeno 200 milioni l'anno chiedendo un piano strutturale per gli RTT è un grande avanzamento che oggi non ci siano più figure precarie come gli RTDA e ci sia invece l'unica figura di ricercatore in tenure track averne almeno 5 mila l'anno per ogni anno da qui alla fine della legislatura è il modo per estendere il nostro sistema per superare anche quel meccanismo capestro negativo dei numeri programmati negli Atenei e poi ministro ci sono strumenti su cui lei può intervenire subito e io ho fiducia che lei lo faccia ad esempio in maniera surrettizia ci sono Atenei che utilizzano le borse di ricerca dopo il dottorato lei sa che la legge lo vieta perché dopo la laurea ci sono le borse di ricerca poi c'è il dottorato poi c'è il contratto di ricerca e il ricercatore in tenure track se questo non viene rispettato c'è il rischio anche qui di un ritorno di un ritorno indietro che faccia rientrare quel precariato che noi abbiamo provato a contrastare per contrastarlo va finanziata questa riforma c'è il tema di un decreto sul tecnologo nell'università e sui nuovi gruppi scientifici disciplinari che sono stati introdotti nello scorso giugno c'è il tema della valorizzazione del dottorato di ricerca nella pubblica amministrazione e di aumentare la borsa anch'essa oggi colpita dall'inflazione c'è il tema di come mettere risorse per continuare politiche espansive negli enti pubblici di ricerca per il reclutamento del personale dei ricercatori dei tecnologi dei tecnici e amministrativi e concludo presidente concludo presidente lei signora ministro e ha fatto bene in tante parti del suo intervento ha focalizzato il tema dell'alta formazione degli AFAM le accademie conservatori coreutica beh allora dentro questo attraggono moltissimi in Italia moltissimi studenti dal resto del mondo su questo però c'è un tema anche qui di lavoro di status economico e professionale dei docenti che va assolutamente affrontato grazie senatrice Bucalo per cinque minuti abbiamo finito poi gli interventi daremo la parola al ministro per le repliche e una sintesi totale grazie presidente grazie ministro io la ringrazio per la sua dettagliata relazione ma soprattutto per il contenuto della sua relazione che ha evidenziato tantissimi punti fondamentali e li ha considerati prioritari punti come investire ancora di più sul diritto allo studio è stato uno dei punti i primi che lei ha affrontato questo punto cioè quello di un rilancio degli investimenti ed è necessario ed è necessario perché l'Italia risulta purtroppo la penultima dopo c'è solo la Romania per iscrizione di per iscrizione di ragazzi e quindi poi di laureati dai 25 e 24 l'altro punto fondamentale che ha affrontato è quello del PNRR ecco veda ministro qui lo sappiamo tutti che il PNRR rappresenta una grande grande opportunità per il nostro paese però io ho un timore che ai ritardi dovuti alla precedente legislatura si possa in alcuni provvedimenti in alcune azioni finanziate ci siano dei ritardi che possano anche portare alla perdita dei finanziamenti per cui io ecco le chiedo se non ritiene che sia necessario che in alcuni specifici finanziamenti che già sono iniziati e che comunque sappiamo che siamo in ritardo bisogna intervenire quindi cercando un arco temporale più ampio rispetto a quello previsto dal finanziamento e questo è un punto molto importante altro passaggio che io ho apprezzato tantissimo io sono una siciliana per cui l'ho apprezzato questo punto che le ha evidenziato finalmente un finanziamento ordinario alle università che supera il meccanismo che c'è sempre stato che penalizza le università su territori che potenzialmente hanno perdono il capitale umano allora bisogna superare questo meccanismo e dare finanziamenti alle università che vivono in territori difficili ecco questo è un punto che io ho apprezzato molto l'altro punto e su questo veramente io la ringrazio la ringrazio per tutti i docenti degli istituti AFAM perché finalmente nella sua relazione c'è stato una rivalutazione e un dare dignità a questi istituti che svolgono un funzione importantissima sia nel campo del musicale che nel campo artistico purtroppo questo è un settore che necessita anche di interventi negli ultimi anni si è investito poco negli ultimi anni non si è rivalutato ecco perché accolgo con grande soddisfazione questo passaggio così importante nella sua relazione anche ai docenti ecco bisogna col tempo migliorare e quindi cercare in modo progressivo di adeguarli allo stipendio del docenti universitari e infine l'ultimo punto che io sottolineo è quello dell'importanza degli ITS gli ITS sono il futuro dei nostri giovani mi auguro che vengano anche rivalutati e finanziati sempre più corsi che siano particolarmente legati al nostro Made in Italy perché sono veramente queste che possano essere rivalutate anche le nostre eccellenze e quindi dia un input ancora maggiore ai nostri giovani io chiudo il mio intervento solo con una precisazione che è per rispondere al collega che anche Fratelli d'Italia con un PDL specifico della collega Frassinetti che è stato abbinato noi abbiamo dato la possibilità collega e c'eravamo come Fratelli d'Italia quindi anche noi abbiamo capito l'importanza che c'era io chiudo con un augurio ma ho una consapevolezza che il suo operato gratificherà questa grande istituzione grazie 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 a tutti per essere stati nei tempi ministro a lei adesso diciamo la sintesi come dicevo chiaramente se ci sono ulteriori passaggi siamo democratici noi cercherò cercherò di sintetizzare però permettetemi di farvi un sincero ringraziamento perché ogni intervento ha toccato dei punti importantissimi che rappresenteranno per noi una sfida perché l'approccio che noi abbiamo è certamente sfidante in un momento difficile ma estremamente prospettico per la nostra università per la nostra ricerca per gli AFAM grazie dell'augurio bellissimo grazie a lei senatrice Bucalo con l'aiuto dei colleghi di maggioranza e opposizione potremo fare ottime cose allora cominciamo dai macrotemi e poi scendiamo su temi specifici alcune delle domande che mi sono state fatte non hanno più un collega di appartenenza presente in aula quindi cerco di solo per una questione diciamo di rispetto nei confronti di chi è rimasto cerco di sintetizzare i temi rimanendo ovviamente a disposizione anche di chi ha fatto domande ma adesso non è più qui per ascoltare le risposte macro tema andiamo in continuità Sni sarebbe folle abbandonare il piano nazionale di ripresa e resilienza dopo avere appostato fondi dopo avere fatto scelte spesso condivise spesso condivise maggioranza opposizione ma stiamo facendo noi stessi scelte di politica universitaria e di ricerca che non sapreste definire in continuità lo scopriremo solo vedendo nei risultati certamente su scelte di appostamento di fondi comprendo perfettamente le osservazioni che sono state fatte concomitantemente dalla maggioranza e dall'opposizione sulla necessità di allargare il margine dell'accesso agli studi sotto il profilo logistico sotto il profilo delle infrastrutture materiali oltre che dell'infrastrutturazione accademica immateriale di alcuni territori del nostro paese sarebbe ovviamente più che opportuno doveroso garantire dei finanziamenti sul welfare e sul diritto allo studio noi lo abbiamo fatto accogliamo quello che è stato fatto prima e qui affronto un altro macrotema la conferenza stampa del presidente Meloni di oggi sulla legge di bilancio non era esaustiva era l'indicazione dei punti che hanno caratterizzato il dibattito politico dei giorni precedenti soprattutto sul tema del fisco soprattutto sul tema dell'energia soprattutto sul tema del carrello della spesa non ho bisogno insomma di esemplificare a voi cose che voi mi insegnate questo non significa che non si parli in legge di bilancio di università o di istruzione mi occupo del mio comparto si parla di università e come? si parla di borse di studio si parla di diritto allo studio io personalmente sono intervenuta ieri ma aspetto di leggere il testo sulla legge di bilancio per ottenere il finanziamento sul 2024 di borse di studio quali quantitativamente soddisfacenti scusate soddisfacenti sotto proprio sotto il profilo delle richieste che voi state facendo quindi esiste questo esiste l'housing universitario esistono riferimenti certamente esistono riferimenti all'università alla ricerca e ci mancherebbe quantomeno perché esistono già poste di bilancio conferite precedentemente anche su questa legge siamo già finanziati per alcuni aspetti poi è evidente che si possa fare meglio io anche qui mi scuso dell'eccesso di sintesi ma lo ribadisco e lo vedrete rimango a disposizione rimango veramente a disposizione perché su questi temi dobbiamo collaborare e dobbiamo collaborare anche in costanza di legge di bilancio e ricordiamoci che il Parlamento è sovrano quindi io sto facendo la mia battaglia in Consiglio dei Ministri ma fate anche voi la battaglia in Parlamento maggioranza e minoranza facciamola tutti insieme la battaglia per ottenere più fondi io la faccio ripeto io mi impegno e lo farò e lo vedrete non sono solo parole ma facciamola insieme il Parlamento è sovrano quindi su questi temi io chiamo veramente la collaborazione totale qui non stiamo facendo dei ragionamenti ideologici o politicizzati stiamo facendo ragionamenti che riguardano il diritto allo studio avete parlato di categorie svantaggiate abbiamo parlato di famiglie povere abbiamo parlato di persone che non accedono per un problema di ascensore sociale al loro diritto allo studio cerchiamo di creare le condizioni perché questo avvenga io sono qui solo per fare questo altro tema poi ovviamente il senatore Crisanti per la parte immagino ci sia qualcosa di specifico che il senatore Crisanti nonché il professor Crisanti ha in mente quando fa certi riferimenti che io non posso conoscere diciamo che in quella parte io stavo in quel momento storico io stavo in un'altra parte di mondo politico peraltro in maggioranza però immagino abbia qualcosa in mente quindi disponibilissima a parlarne io posso dire che sui partenariati noi l'abbiamo fatto noi loro noi tutti insieme nelle posizioni di allora una scelta è stata fatta però se c'è qualcosa di specifico di cui vogliamo parlare parliamone perché se esiste una patologia il modo migliore è evidenziarla trovare una terapia l'onorevole Cattaneo ti ha dato ragione diamoci intanto ci diamo del tuo è inutile fare l'ipocrisia ti ha dato ragione e io do ragione all'onorevole Cattaneo però qui devo dare torto a qualcun altro quando dice che il contratto di ricerca è tricky è pericoloso un contratto a tempo determinato collega Verducci tu sai quanto ti stimo però il ricercatore è libero o è un dipendente ne vogliamo parlare chi è il ricercatore qual è il soggetto la natura del ricercatore è di libero studioso scienziato che deve essere per carità attribuito giustamente o è un dipendente se è un dipendente di chi quindi lo ripeto io sto ponendo una questione che sicuramente non posso risolvere nei prossimi tre minuti e certamente non lo voglio fare da sola il contratto di ricerca non può entrare in vigore ora questo per rispondere alla domanda del collega Casu non può entrare in vigore ora quindi ci sarà una proroga perché il contratto collettivo nazionale non esiste ma già contratto collettivo nazionale non lo so cioè ragioniamoci funziona funziona qui ci sono già due posizioni diverse lo avete visto ve ne siete resi conto ci sono due concezioni diverse di un modo di agire un ruolo io non so quale sia in questo momento né tantomeno voglio dire il modo migliore posso dire che così come è stato costruito in questo momento non funziona quindi proroga questo to make a long story short poi vediamo siamo qui per valutare insieme gli effetti di un programma di cui vedremo il progress insieme e di cui dovremo prenderci cura dal 2026 in poi temi ancora numero chiuso vexatissima questo che vi devo dire io allora prima di tutto c'è un principio di autonomia universitaria che voi sapete facciamo fatica a violare anche se i programmi di molti diciamo maggioranza e opposizione prevedevano l'idea di un'apertura un'apertura maggiore degli Atenei soprattutto io qui ho tutta una serie di numeri con cui non vi ammorberò no numeri che riguardano la facoltà di medicina quello che è stato concordato a livello di conferenza Stato-Regioni ne parleremo il tema è ove si decidesse di aprire voi stessi avete detto che la Cruy non è d'accordo nei vostri interventi qualcuno ha evidenziato il fatto che la conferenza dei rettori tende a non favorire questa soluzione non sono io il giudice ultimo perché ripeto non ho un approccio dirigista nei confronti dell'autonomia universitaria mi domando solo se esista in questo momento una uniformità di strutture in grado di offrire il servizio che l'apertura del numero chiuso porterebbe parlo proprio di strutture di risorse umane cioè professori di strutture accademiche aule luoghi dove svolgere la didattica questi sono i temi che vengono posti dai rettori o comunque dalle persone che si sono diciamo dai colleghi che si sono confrontati su questi temi anch'io credo che il numero chiuso sia complicato da mantenere in questi termini però da chiuso chiuso a aperto aperto rischiamo di passare da una patologia all'altra quindi come posso dire dobbiamo trovare un modello di temperamento che sia il modello francese che sia non lo so non lo so non lo devo decidere io in questo momento lo dobbiamo valutare insieme però il tema esiste il problema c'è che se ne dica il problema c'è quindi che se ne dica nel senso che c'è chi dice no assolutamente no e c'è chi dice sì assolutamente sì però dobbiamo trovare una soluzione che sia compatibile con il principio di realtà e con il diritto allo studio che deve essere garantito allo studente perché se lo studente viene mal tollerato in un contesto che ha strutture inagibili e non ha sufficienti docenti a disposizione cioè ci sono degli indicatori di performance che devono essere rispettati dalle università sia in termini di struttura sia in termini di personale docente a disposizione dei discenti voi questo me lo insegnate quindi cosa mi sto dimenticando tantissima roba gli stem però se ci pensate certo questo è pieno allora se leggete io mi permetterò di lasciarvi la mia relazione è piena di stem sì però non diamoci del lei se no prof esatto allora in maniera in maniera rituale se vuole scusi siccome siamo in diretta io le do la parola accende il microfono magari facciamo così facciamo fine il ministro e le do 30 secondi per la replica se no così non ci riusciamo a comprendere sì tanti temi ancora dovrei trattare mi dovete concedere alla prossima esatto mi dovete concedere un'altra occasione se c'è qualcosa a cui non ho risposto che voi l'integrazione nella relazione c'è e alcune delle cose che voi mi avete chiesto sono presenti in relazione però naturalmente rimango a disposizione ovi vi fossero ulteriori ecco dice numero chiuso ha risposto stavo guardando gli intervenuti per capire se stavo trascurando qualcosa direi onorevole caso c'era qualcos'altro che aveva detto che non mi ricordo meccanismo di valutazione meccanismo di valutazione anche su quello vaste programme noi abbiamo una struttura una tecnostruttura che sta nascendo è vero la sottosegretaria Montaroli lo sa bene proprio sulla valutazione e ne parlavamo anche con la senatrice Cattani la valutazione non può essere random o appezzatura di leopardo deve avere dei criteri noi dobbiamo lasciare il ministero questo potrebbe essere già un elemento di mission con degli strumenti di valutazione esatti corretti equanimi equilibrati non solo domestici ma anche internazionali però anche su questo abbiamo bisogno di stanziare fondi comunque ripeto io vi ringrazio perché sono tutte sollecitazioni di cui terremo assolutamente conto vero Augusta terremo assolutamente conto e naturalmente considero questo solamente il primo di una serie di incontri per cui mi rendo disponibile grazie ministro grazie a tutti i colleghi c'è 30 secondi veramente e poi non credo che ci siano altri interventi possiamo chiudere la seduta ringrazio tantissimo solo sugli stem una considerazione che veramente c'è una disparità di genere pazzesca che è principalmente culturale e che non si risolve con ulteriori investimenti di offerta perché guardi la Finlandia che ha degli indici di equiparazione di genere tra i più alti al mondo sullo stem c'ha le stesse problematiche e allora noi fra 30 anni avremo lo stesso problema di diseguaglianza di genere perché i migliori posti saranno di ingegneri informatici saranno di chimici di saranno di matematici saranno di fisici e quindi riproponiamo le stesse differenze di genere fra 30 anni se non risolviamo sto problema ma solo che c'è bisogno di soluzioni culturali più che un fatto culturale grazie 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 l'ultimo intervento grazie per la sua cortesia presidente grazie alla ministra per la pazienza che ha di questa mia interlocuzione che faccio solamente su un tema signora ministra sì perché già oggi come lei sa i ricercatori i ricercatori tipo B sono dipendenti dell'università come lei sa come lei sa signora ministro il contratto di ricerca è oggi legge dello Stato tra l'altro l'articolo 22 ha approvato a larghissima maggioranza come è stato ripetuto anche dall'esponente di Fratelli d'Italia quindi penso che sia e può essere applicato senza riferimento al contratto collettivo nazionale il tema della dignità del lavoro della ricerca su questo penso che sia il tema decisivo per il nostro paese grazie in maniera irrituale faccio chiudere la seduta al presidente della commissione per la camera a Monicone perché diciamo dovrà invitarvi poi alla seduta di domani presidente a lei la chiusura sì no solo per ringraziare il presidente Marti per l'ospitalità e il senato ovviamente i colleghi del senato per l'ospitalità e ricambieremo domani come commissione cultura settima alle 13 in commissione riunita sala della regina per le audizioni del ministro per lo sport e i giovani Andrea Bodi sulle linee programmatiche e il suo di Castero ovviamente i deputati possono partecipare all'audizione anche in videoconferenza secondo le modalità stabilite dall'aggiunta per regolamento della camera quindi vi aspettiamo in sala della regina domani alle 13 con il ministro Bodi grazie 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 a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti